Siamo sperimenti. Possiamo iniziare, penso. Possiamo iniziare? Sì. Oppure aspettiamo? No, no. Aspettiamo. Sì, si stanno rapidamente. Siamo iniziati. Siamo iniziati. Siamo iniziati. Siamo iniziati. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sono lieto di aprire con un saluto di benvenuto a questo incontro di oggi. Intanto vi porto pure i saluti del nostro Presidente che non ha potuto partecipare perché è impegnato in un'altra attività istituzionale. è che questo incontro di oggi in cui a distanza di circa due anni da quando l'autorità nazionale di corruzione, per la quale mi onoro di essere segretario generale, ha accettato la sfida di coordinare questo impegno per una innovazione digitale inclusiva nel quadro del quinto piano nazionale del governo aperto. è un impegno che coniuga digitalizzazione, trasparenza e coinvolgimento della società civile nella prevenzione della corruzione attraverso l'uso corretto di quella enorme risorsa che sono i dati che le pubbliche amministrazioni pubblicano in formato aperto ai fini di una trasparenza proattiva. digitalizzazione e trasparenza sono due importanti presidi per la prevenzione della corruzione e l'obiettivo dell'azione è quello di accrescere la capacità sia da parte della società civile che delle amministrazioni di utilizzare i dati sui contatti esistenti, contatti pubblici e di creare valore in modo tale da poter essere facilmente fruibili da parte dei cittadini chiunque ne abbia interesse. è un progetto di miglioramento delle capacità della società civile nell'utilizzo delle informazioni perché spesso abbiamo detto che i dati è come se non esistessero se non c'è una comunità che li usa che sia capaci di trasformarli in informazioni e valori. Oggi sono qui presenti in parte di persone, in parte collegate virtualmente, sia le amministrazioni e le organizzazioni della società civile con cui abbiamo condiviso questo cammino che ha portato i suoi frutti, sia i colleghi di altra amministrazione con le quali collaboriamo e condividiamo su altri tavoli un percorso di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica nel suo complesso sia a livello centrale che locale. L'incontro sarà anche oggi l'occasione per tracciare un primo bilancio ora che il cammino si avvicina alla sua scadenza ed è incoraggiante sapere che in questi due anni sono stati fatti importanti passi avanti nella qualità e nella quantità delle informazioni condivise è che nel suo piccolo questo percorso che ha visto collaborare in modo paritetico pubblica amministrazione e società civile ha portato i suoi frutti. Si possono ricordare per esempio le informazioni che abbiamo cominciato a raccogliere e pubblicare in formato aperto sulle deroghe alle clausole su pari opportunità e inclusione lavorativa da parte delle stazioni appaltanti nei contratti del PNRR e ci sono state richieste dall'organizzazione delle società civile o l'inclusione dei tagli negli appalti PNRR e sui progetti di investimento sia da parte nostra che da parte del PNRR in modo che fosse più facile individuare quali contratti ricadano nell'ambito del PNRR. A questi si aggiungono inoltre gli importanti progressi nella condivisione dei dati del PNRR che sono stati possibili grazie alle amministrazioni qui presenti ed anche, non dimentichiamolo, importanti strumenti di quale le linee guida open data pubblicata ad agosto dall'Agenzia per l'Italia Digitale anche esse frutto di un percorso partecipativo. Siamo partiti quando i dati dei progetti afferenti al PNRR ancora non erano disponibili condividendo i dati della nostra banca dati, dei contratti pubblici in formato aperto ed alcune amministrazioni ci hanno coadjuvato con le loro banche dati come il Dipe che ha messo a disposizione i dati di OpenCup, il Format che anche oggi supporta l'azione mettendo a disposizione gli esperti le capacità organizzative e le piattaforme per svolgere le riunioni o il Dipartimento della Transizione Digitale che ha messo in priorità l'inserimento dei nostri servizi nella piattaforma nazionale per la interoperabilità, compresi quei dati e quelle interfacce che costituivano una milestone di questa azione. Ma soprattutto ringraziamo le organizzazioni della società civile come Fondata, Moniton e Fondazione Etica che hanno aiutato nella individuazione di ulteriori dati che potessero essere messi a sistema con quelli nostri e che nell'ambito di questo cammino hanno prodotto un ottimo pademecum per l'utilizzo dei dati aperti sugli appalti e gli investimenti pubblici, oggi pubblicato sul sito dati bene comuni. Come sapete l'autorità è fortemente coinvolta nel processo di digitalizzazione del nostro Paese non solo per la digitalizzazione degli appalti ma anche per la trasparenza, per la realizzazione di una piattaforma che permetta alla società civile di accedere, di confrontare in maniera semplice e immediata tutte le informazioni che le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili ai cittadini e di semplificare anche per le amministrazioni, le amministrazioni, gli oneri di pubblicazione. A riguardo anche quest'anno dopo la pubblicazione del decreto legislativo 231 del 2022 e 22 l'autorità ha costituito una piattaforma per la pubblicazione dei contratti sui servizi pubblici locali e il sito lo ha fortemente voluto per far sì che le informazioni in esso contenute potessero essere utilizzate facilmente dai cittadini e da chiunque ne avesse interesse. Quindi l'occasione di oggi si propone quindi non tanto come un punto di arrivo ma come un'etapa intermedia di un lungo cammino che continueremo a portare avanti insieme sull'onda dell'innovazione e della trasparenza come illustrato nei manifesti presenti in questa sala. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro un buon lavoro. Mi scuso se mi devo lasciare per il tuo altro interno. Grazie ancora e buon lavoro a tutti i paesi. Grazie, 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 segretario generale. Mi avvicino alla postazione e chiedo a Gianpaolo se possiamo adattare un po' il volume perché ci segnalano che il volume è basso. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie. A presto. Il microfono. Ci sentite un po' meglio adesso? Sentite meglio? Avvicinandosi al microfono si sente meglio? Sì. Sì, ora si sente meglio, grazie. Ok, perfetto. Allora, prendo la parola io ma giusto così come introduzione ai lavori della mattinata. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Questo incontro si inserisce nel quadro delle attività progettuali dell'impegno 502 nell'ambito di realizzazione e di sviluppo del quinto National Action Plan presentato dall'Italia per OGP e ha avuto un orizzonte temporale che va da marzo del 2022 a dicembre del 2023. Quindi ci stiamo avvicinando un po' alla chiusura delle attività specifiche di progetto e abbiamo pensato di realizzare la consueta, il consueto incontro mensile che svolgiamo come gruppo di lavoro in maniera sistematica. Abbiamo pensato di, come dire, vederlo come un momento un po' di sintesi e di riassunto di quanto abbiamo realizzato ma nello stesso tempo un po' di prospettiva. Infatti abbiamo articolato la mattinata in due sessioni separate. Una prima, che vedete nel programma, all'obiettivo un po' di riassumere appunto quanto è stato fatto in questi 18 mesi. e attendere appunto fino a dicembre del 2023. E poi una seconda parte in cui ci confrontiamo e vogliamo ragionare insieme a voi, ai partecipanti e anche a chi vorrà presentare delle domande dall'esterno per capire, evidenziare un po' i risultati e l'impatto dell'apertura dei dati su PNRR ma non solo, sui territori e quindi arrivare a capire un po' localmente come si stanno muovendo i vari soggetti attuatori, le amministrazioni nella realizzazione dei propri investimenti. Nel quadro, ovviamente cercando di avere un nuovo quadro omogeneo, unitario nella prospettiva dell'apertura dei dati legate alle misure di incentivazione ma nello stesso tempo ci raggiungerà anche il gruppo di Opa in coesione vorremmo cercare di capire anche il contesto della nuova programmazione e come è possibile far convergere progetti, idee, strumenti di monitoraggio sia al lato PNRR e quindi seguendo determinate specifiche attività di sviluppo sia con la nuova programmazione. Vorremmo quindi comunque avere qualche minuto lasciarci qualche minuto alla fine per ragionare insieme sui prossimi passaggi e sulle prospettive future. A gennaio del 2024 partirà la nuova progettazione del nuovo piano quindi il nostro auspicio è che si possa aggiungere qualche iniziativa delle azioni e degli impegni anche nel nuovo piano specificamente ovviamente sul monitoraggio e sull'apertura dei dati delle politiche pubbliche è più un senso lato come vi dicevo quindi non solo PNRR ma anche capire la nuova programmazione come si sta muovendo in questa direzione. Io mi limiterei a queste poche parole di introduzione poi ovviamente nel corso della mattinata ragioniamo insieme insomma mi segnerò insomma degli spunti interessanti che potranno emergere per poi appunto discuterne insieme. Io chiederei a Gianpaolo di così raccontarci dal loro punto di vista dal punto di vista dell'autorità un po' il lavoro che avete fatto che siete riusciti a mettere insieme con il supporto della società civile e delle altre amministrazioni. Quindi facciamo una sintesi iniziale di quanto abbiamo realizzato anche poi successivamente con Andrea Borruso di Ondata che ci mostrerà un po' i prodotti della nostra attività e poi avere un po' un quadro generale con Matteo Fortini del Dipartimento Antonio Roduto dell'Agenzia e Chiara Ricci del MEF che ci racconta un po' il contesto di riferimento in cui si stanno muovendo si stanno muovendo le amministrazioni nella prospettiva di apertura dei dati degli investimenti pubblici. Ti ringrazio, ti ringrazio in anticipo, ringrazio Gianpaolo anche dell'ospitalità a te la parola. Grazie. Grazie. Io sono Gianpaolo Sellitto di ANAC abbiamo coordinato insieme alle altre amministrazioni questa questa azione del quinto piano nazionale del governo aperto come anticipato dal segretario generale e ora a due anni dall'avvio dell'azione cominciamo a vedere i primi frutti ma cominciamo anche a vedere che il panorama in maniera molto molto visibile che il panorama è cambiato a distanza di due anni quando siamo partiti con il quinto piano nazionale del governo aperto che era incentrato sul PNRR su azioni di open government nell'ambito del PNRR questa voleva essere un'azione non tanto per condividere dati ma come è stato già anticipato per l'empowerment della società civile in modo che quando i dati fossero stati finalmente disponibili ed ora oggi sono disponibili grazie al portale Italia Domani a Regis a tanti altri fornitori di dati anche le regioni i comuni hanno cominciato a pubblicare i dati sul PNRR noi stessi le pubbliche amministrazioni hanno cominciato a pubblicare dei dati più utilizzabili in relazione ai progetti del PNRR quando fossero stati finalmente disponibili ci fosse ci fosse anche la capacità da parte dell'organizzazione della società civile dei cittadini e delle stesse pubbliche amministrazioni di utilizzare questi dati in modo proficuo due anni fa avevamo molte lamentere da parte delle organizzazioni della società civile che poi sono diciamo continuate per un po' riguardo alla mancanza di dati molti anche articoli giornali riguardo alla mancanza dei dati forse i dati già esistevano alcuni dati ed era il caso di sapere dove fossero e di utilizzarli e di metterli a sistema oggi grazie anche a questa azione e grazie all'impegno di società civile e amministrazioni alla pubblicità che si fa dei dati dell'esistenza dei dati i dati finalmente esistono esistono fonti dati anche molto molto ben organizzate ben presentate è di ieri la pubblicazione è di ieri una notizia sono stati aggiornati anche i dati di d'Italia domani su PNRR anche l'interfaccia è molto molto utilizzabile è facilmente comprensibile e adesso l'azione sembra che di chi vuole utilizzare i dati l'attenzione sembra che si sia spostata sulla fruibilità di questi dati di nuovo spesso la non fruibilità dei dati nasconde una incapacità da parte cioè una non preparazione da parte di chi li vuole utilizzare dovuta a eh all'essenziale mancanza di cultura a livello nazionale su come si utilizzano i dati eh si è sempre detto che non non esistono molti data scientist in Italia bisogna crearli adesso sta nascendo sicuramente una nuova generazione di data scientist di persone che sanno utilizzare nativamente i dati però chi magari ha qualche qualche anno in più non è ancora forse preparato vorrebbe degli indicatori al posto dei dei dati di grossi insieme ai dati perché non ha non ha gli strumenti per per analizzare grosse quantità di dati sicuramente la presenza di dati aperti è del tutto differente dalla pubblicazione di indicatori gli indicatori sono qualcosa di già premasticato spesso sono indicatori scatole nere eh rispetto ai quali bisognerebbe capire e anche qui sarebbe importante eh un'azione anche su questo l'autorità eh recentemente si è impegnata eh bisognerebbe capire quali sono i limiti degli indicatori e soprattutto quali sono i dati che entrano nel calcolo degli indicatori questo è fondamentale quindi un'azione come questa di messa al sistema di dati eh creazione di indicatori ehm anche critica rispetto agli indicatori è fondamentale è fondamentale perché parte dal basso non sono dati che vengono dall'alto è un'azione che è partita dal basso nel frattempo sono venuti anche sono state messe in campo e di questo punto si ringraziano anche le le altre amministrazioni sono state messe in campo azioni di fornitura dei dati dall'alto di facilitazione dell'accesso ai dati attraverso portali eh centralizzati come quello del MEF che vengono da parte della pubblica amministrazione ma è bene che da tutte e due le parti società civile e pubblica amministrazione si sviluppi una capacità poi di rendere questi dati informazioni conoscenza saggezza come dice qualcuno attraverso proprio un'azione di empowerment di eh acquisizione di capacità di gestire questi dati e di trasformarli non solo in asset non utilizzati ma in in qualcosa che muove anche la la società eh il nel suo complesso sicuramente a distanza di due anni dobbiamo dire che abbiamo molto di più e quest'azione almeno per le amministrazioni che hanno partecipato per per la società civile ha contribuito a far meta a stimolare le amministrazioni a mettere più dati eh a disposizione e forse ha anche creato eh attorno un una volontà nel panorama nazionale di mettere a disposizione questi dati eh ha ha stimolato un po' un dibattito la l'autorità nazionale anticorruzione come come ha anticipato il segretario generale ha messo a disposizione per esempio proprio su forte richiesta di alcune organizzazioni sociali e civile che poi li hanno sfruttati i dati sulle eh praticamente che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare rispetto alla non inclusione di clausole sulla parità di genere o sulla parità pari opportunità generazionali all'interno dei delle gare ehm questa non rispetto delle di quelli che sono degli obiettivi di parità di genere o di parità eh pari opportunità generazionali devono essere chiaramente giustificati non eh quando vengono inclusi e avere conoscenza di chi negli appalti ha come dire deviato rispetto a un un obiettivo nazionale e conoscere le le motivazioni è sicuramente eh importantissimo per la società civile ed è solo un primo esempio di quello che si può fare con i dati eh di come si possa stimolare un monitoraggio civico attraverso i dati perché eh l'obiettivo di far includere eh clausole sulla polarità di genere o clausole sulla eh sulle pari opportunità generazionali all'interno dei progetti PNRR era un obiettivo nazionale e la società civile in questo caso dovrebbe monitorare perché questa è una rigaduta sul benessere e sulla vita di tutti i cittadini della società del suo complesso chiaramente attraverso un esempio sul quale ci si focalizza e attraverso il quale si sviluppano delle capacità poi si può avere un ritorno in termini di capacità della società civile di richiedere nelle maniere eh opportune e poi di utilizzare i dati una volta che vengono messi a disposizione perché non basta richiedere i dati bisogna poi utilizzarli sapere eh come utilizzarli sapere come trasformarli appunto in eh articoli storytelling e quant'altro anche in questo abbiamo fatto un lavoro che è un po' tra virgolette nascosto perché abbiamo messo in contatto tra di loro eh organizzazioni della società civile che avessero già la capacità di eh analizzare i dati con organizzazioni della società civile che invece questi dati richiedevano ma volevano anche analizzarli e non non erano non avevano magari la capacità in termini di eh personale o strumenti perché non è semplice utilizzare i dati in formato aperto eh bisogna disporre gli strumenti informatici bisogna disporre gli strumenti che permettono un'analisi degli stessi come ANAC abbiamo messo a disposizione un portale per l'analisi self-service per eh utilizzare per derivare dai dati che abbiamo semplici indicatori visualizzarli perché la visualizzazione aiuta molto spesso un un diagramma è molto più dice molto di più eh di quanto dicono mille parole eh e abbiamo messo negli ultimi due anni abbiamo messo a disposizione un portale che non è molto conosciuto ma che comunque è disponibile sul nostro portale sito web di che mette a disposizione settanta indicatori di rischio corruzione a livello locale sviluppati insieme a società civile esperti università eh altri stakeholder altre amministrazioni questi sono non sono indicatori di corruzione ma indicatori di rischio corruzione e sono indicatori eh complessi eh a largo raggio e attraverso quest'azione per esempio l'autorità ha voluto dare un un esempio una sorta di leading by example rispetto proprio all'apertura del codice degli indicatori perché è necessario che i ricercatori della società civile sappiano qual è quali sono le operazioni che danno luogo ad un indicatore e apertura dei dati che sono sotto agli indicatori per capire quali dati sono entrati nel eh in un indicatore poi serve alla valutazione eh di qualcosa serve a eh concedere un beneficio o a revocarlo questo è molto importante in questa fase di transizione in cui si parla di intelligenza artificiale nei processi eh nei processi amministrativi introduzione sempre di più di strumenti di intelligenza artificiale big data eh o quant'altro o machine learning all'interno dei processi amministrativi perché i cittadini le organizzazioni della società civile chi poi è oggetto dei processi amministrativi quindi tutti noi abbiamo il diritto di conoscere quali sono gli strumenti informatici applicati gli strumenti che giudicano eh che ci aprono delle opportunità o ce le tolgono affinché non abbia non siano gli strumenti informatici ad avere il sovravvento poi sulle eh sulla società sulla società nel suo complesso quindi è una questione anche di governance degli strumenti che che il PNRR ci sta mettendo a disposizione forse nel prossimo nella prossima strategia il governo aperto eh delle domande sulla governance e gli strumenti del digitale dovrebbero dovrebbero entrare eh è una preoccupazione di di open government eh partnership nel suo complesso ma è una una come dire in esito a questa a questa azione forse i prossimi passi sono proprio eh passi di eh gestione della governance di quello che che ci governa governance del governo ok eh io ho concluso eh passiamo al prossimo intervento nel quale comunque appunto verrà raccontato cosa è stato messo a disposizione voglio solo in in chiusura eh citare cosa ha fatto anche cosa hanno fatto anche altre amministrazioni che hanno collaborato in questo in questo in questa azione del piano nazionale del governo aperto eh in particolare il Dipe ha marcato fin dall'inizio i dati eh del CUP di OpenCUP eh anche in fase di raccolta e non sempre è semplice eh come dire spingere l'amministrazione a inserire dati eh ulteriori ha cominciato a marcare fin dall'inizio i dati dei progetti rientranti nel PNRR con un tag PNRR affinché fossero eh più facilmente riconoscibili e fruibili nel momento in cui venivano pubblicati ai fini di trasparenza eh come OpenData eh il Dipartimento Transizione Digitale come ha detto anche il Segretario Generale ha priorizzato la pubblicazione delle API di ANAC all'interno della della Banca Dati delle eh della PDND della Piattaforma Nazionale dei Dati e stiamo lavorando ancora con il Dipartimento Transizione Digitale speriamo che entro la fine dell'anno sia disponibile anche uno strumento come un'ontologia per eh guidare all'utilizzo di questi dati e le altre amministrazioni che stanno lavorando MEF e le amministrazioni che che concorrono a BIDAP è un è un lavoro molto di squadra in questo momento quello di raccogliere i dati del PNRR e sfruttare l'interoperabilità tra l'altro in un momento in cui sta cambiando il paradigma di interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e in ultimo Agit Antonio eh che ha che ha pubblicato anche delle linee guida per eh la pubblicazione dei dati aperti da parte delle pubbliche amministrazioni questo è un grosso passo avanti nel panorama nazionale abbiamo delle linee guida specifiche aggiornate su come pubblicare i dati non che non esistessero ma sicuramente abbiamo delle linee guida ora allineate e aggiornate quindi lascio lascio la parola a Andrea Borruso che eh di ondata che che è la parte di eh società civile quindi ascoltiamo il l'altra l'altra parte che eh ha collaborato pariteticamente a questo tavolo mi sembra che sia stata un'esperienza ottima comunque Andrea a te il il palcoscene buongiorno a tutte e tutti eh grazie per questa opportunità grazie per l'ospitalità devo dirvi che come mi è capitato già in questo tavolo c'è anche proprio un piacere personale sono un po' emozionato perché eh una cosa molto interessante di questo tavolo di lavoro ehm è stata la modalità in cui abbiamo lavorato ci siamo scambiati sin dal primo momento eh critiche proposte soluzioni e dati quando noi abbiamo iniziato a lavorare c'erano ancora ehm eh pochissimi dati ehm pubblicati sul sito del del PNRR ma uno degli obiettivi del tavolo era quello di valorizzare eh quanto già di buono ed efficace ehm era già pubblicato da altre pubbliche amministrazioni e ehm da eh utente da eh membro di un'associazione che spinge sul valorizzare ehm il l'utilizzo eh dei dati aperti ehm ci è piaciuto molto poter dare un contributo un contributo di ehm guida diciamo di far uscire un po' dal ehm da dall'angolo degli esperti dall'angolo un po' dei maniaci tra virgolette di certi temi eh questi dataset che sono dataset un po' complicati ehm e soprattutto trovare un modo ehm non non semplice ma in realtà fattibile di provare a unire i punti quindi si parte da banche dati diciamo per esperti e da banche dati che hanno eh dei ponti eh tra di loro ma un po' bisogna conoscerli un po' bisogna eh renderli più trasparenti di come erano magari all'inizio una cosa molto bella di questo tavolo è che io ho imparato tantissimo eh credo che lo possiamo dire un po' eh un po' tutti in tutti i ruoli che abbiamo eh in questo tavolo è proprio nella prima parte di costruzione di eh una guida eh sui dati aperti del PNRR che eh che abbiamo costruito per me è stato essenziale ehm confrontarmi con diverse pubbliche eh amministrazioni una cosa eh che mi è piaciuta tantissimo è il dialogo schietto il dialogo diretto cioè ehm da società civile sono costretta a dire con molto piacere ma lo lo dico spesso che la pubblica amministrazione è in ascolto nel senso è chiaro eh non funziona sempre non è non è sempre così facile eh però eh delle volte mh riscontro anche eh un po' di di pigrizia eh io fino a stamattina ho scritto un'email l'open coesione con cui che è un altro partner con cui abbiamo il piacere di dialogare eh da tempo e come dire non eh non siamo eh non abbiamo nessun rapporto diciamo di eh non siamo amici poi vabbè con alcune persone sì magari però eh abbiamo fatto delle delle note abbiamo avuto sempre risposte e la cosa interessante è che sono dialoghi con la pubblica amministrazione in cui eh alle volte o hai un risultato in termini di eh di dati eh o di pratiche eh o noi stessi capiamo di avere compreso male qualcosa come società civile e ripartiamo per fare meglio eh quelle che sono le nostre azioni civiche se posso condividere lo schermo eh ci provo un secondo vi voglio un attimo raccontare datemi un attimo soltanto quindi quindi eh questa finestra qua ok condividi ok si vede una finestra del browser mi date confermo sì sì vediamo perfetto allora questa è la guida che abbiamo iniziato a redare quando non c'erano i dati dal sistema dal sistema registi quindi in qualche modo era era un altro mondo ma il punto di partenza era vabbè ma è tutto così brutto è tutto così opaco è vero che non ci sono dati ovviamente la risposta è no ed era un po' difficile soltanto magari eh mettere eh in luce ehm le le informazioni legate al PNRR ehm e metterle in correlazione a partire dalle dalle varie fonti in questo tavolo uno dei lavori che è stato fatto all'inizio è stato proprio quello di palesare eh i ponti e o fare uscire dataset dedicati al PNRR l'hanno detto prima il segretario l'ha detto Giampaolo è stato eh molto bello come società civile poter partecipare e vedere l'attuazione di queste cose la guida ehm mette insieme le principali fonti nazionali eh fino a un po' di tempo fa non c'erano i dataset e Regis eh aggiornati da pochissimo non mi ripeto eh ci sono aggiornamenti molto molto interessanti proprio sulle sulle gare sugli aggiudicatari sono dataset molto belli però voglio un attimo proprio partire dai dai dei primi passi noi eh siamo partiti eh proprio con i dati di di OpenCoop che ehm tra i primi hanno eh generato una eh sezione eh hanno messo come dire l'etichetta eh PNRR cosa che era essenziale perché all'inizio eh in molte di queste banche dati anche molto grandi potevi fare delle ricerche testuali ma con il rischio di prendere cantonate o comunque di perdere informazioni mentre ehm è stata creata ormai da diverso tempo la sezione focus sul sul PNRR e questo ehm è stato un primo elemento molto forte di ehm pubblicazioni dati a tema prima eh non non esistente il dialogo con con il DIP è stato continuo è tutto rinatto e loro continueranno aggiornare questi dati quindi focus PNRR eh su ehm su OpenCoop l'altra cosa molto interessante per noi è un partner quando dico noi poi dico associazione ondata per noi è un partner da sempre ehm molto importante eh ed è un altro degli esempi di ehm pubblica amministrazione eh con cui ehm si parla eh si costruisce eh si impara si restituisce ma è ehm è stata ed è una bella eh una bella conferma anche qui come ha detto Giampaolo come ha detto il segretario durante i lavori del tavolo sono usciti i dati che prima non c'erano nella forma nelle modalità richieste dalla dalla società civile molto interessante il tema del genere sono emerse le prime analisi che dicono che probabilmente l'impatto è molto più debolo di quello che sarebbe necessario e quindi grazie ai dati si possono fare adesso battaglie eh come dire politiche non sui dati sugli obiettivi eh del piano se sono eh raggiunti ehm o meno e ehm nella guida eh vengono dettagliati alcuni dataset pubblicati già eh da tempo quali sono i parametri che consentono l'interoperabilità ovviamente i codici CIG e CUP che sono presenti ad esempio anche nei dati di Regis eh pubblicati ehm adesso una cosa che abbiamo eh voluto ehm mettere in evidenza sono anche eh le informazioni un po' visuali no? Se io ho un codice e voglio fare una paginetta con la mappetta in cui faccio clic su pallino e mi si apre ehm la notizia di un CIG o di un CUP è possibile farlo quindi una roba per utente diciamo visuale non uno che deve fare analisi dati allora abbiamo messo molto visibili non sono sempre documentate nei siti di origine le modalità con cui a partire da un CIG mi genero una paginetta eh quindi c'è un URL dedicato ehm basta conoscere il CIG si apre la pagina la lascio caricare in background e vado avanti questo l'abbiamo fatto anche per i CUP l'altra cosa che abbiamo fatta mentre mentre questa cosa che vi ho raccontato era dedicata al ehm qui si sta caricando era dedicata a una modalità visuale ci sono c'erano e ci sono delle API che erano note soprattutto alle pubbliche amministrazioni eh ma non erano note alla società civile non c'era una pagina pubblica allora dialogando con con ANAC abbiamo detto è molto interessante per chi fa eh analisi automatica documentare queste API per cui a partire da un CIG è possibile eh risalire a ehm alle informazioni eh in maniera machine readable per fare ehm scripting e analisi automatiche in questa guida trovate le modalità eh di di accesso tra eh le altre fonti anche queste abbiamo soprattutto voluto ehm dare evidenza a piccole cose un po' nascoste no? per esempio la banca dati servizi contratti pubblici è nota eh agli esperti di settore eh poco nota un po' la società civile un po' eh un po' più un po' più larga e ehm anche qui eh abbiamo soprattutto sottolineato come fosse possibile risalire ai dati eh correlati a al PNRR e a come estrarre informazioni eh in maniera ehm programmatica e quindi anche qui ci sono delle API abbiamo fatto eh degli esempi anche qui l'interoperabilità viene garantita molto spesso dai codici tipo tipo il CIG e il CUP quindi abbiamo visto tre banche dati anche molto grosse con ehm il e come è come possibile metterle insieme nella guida poi facciamo vedere esempi diciamo eh di 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 output ehm OpenBidup è un'altra delle grosse banche dati della ragioneria generale dello Stato non entro nei dettagli semplicemente anche qui eh grazie al CUP si può eh creare interoperabilità e infine vado sul Regis e poi vado alle conclusioni chiaramente la pubblicazione dei dati Regis soprattutto gli aggiornamenti successivi ha un po' cambiato ehm eh come dire il le carte in tavola nel senso che noi come società civile una grande fette società civile abbiamo fatto richieste foia abbiamo fatto anche un po' di rumore perché ci sembrava brutto che questi dati non non fossero pubblicati c'era una sorta di emergenza informativa non l'abbiamo chiamata l'emergenza informativa eh dal nostro punto di vista è ehm è risolta eh sono dati molto ricchi sono dati per ehm in qualche modo per esperti eh di dati non è così facile eh creare ehm come dire se non se non se non sai un po' dare senso a a quei numeri noi a partire dai dati di Regis abbiamo fatto una 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 mappa che eh rende eh geograficamente esplorabile un po' eh tutte le misure con con tantissimi filtri quindi per vedere un po' eh l'impatto locale questo è un primo esempio la mappa interattiva si va adattando ai tipi di filtri che inseriamo c'è un ci sono dei filtri a faccette senza questi dati eh tutto questo non sarebbe possibile eh concludo interrompo la prima di interrompere la condivisione voglio soltanto dirvi che nella nostra newsletter trovate eh tante di questi temi sviluppati su PNRR insieme all'osservatore civico del PNRR per la campagna dati bene comune eh stiamo seguendo eh molto questo questo tema interrompo la condivisione e concludo devo capire come si fa interrompere lo si fa da qua eh allora eh un paio di note tra virgolette eh critiche eh è ancora un po' complesso eh sfogliare questi dati nel senso che devi essere un po' un esperto di dati ci sta è difficile fare cose per tutti però pensiamo in coesione quello che fa su quelle banche dati ci sono i dati grossi difficili ma c'è l'interfaccia e allora negli obiettivi del PNRR è palesato che deve essere reso disponibile anche delle delle modalità eh che consentono anche un po' in maniera visuale di esplorare un po' meglio eh un po' più semplicemente diciamo più che meglio questi dati secondo me l'esempio di precoesione è un ottimo esempio e poi questa interoperabilità che vi ho raccontato un po' di corsa dovrebbe essere un po' garantita fino al nodo locale queste grosse banche dati si parlano abbastanza quando poi dobbiamo andare a cercare la documentazione la progettualità del singolo comune a partire da un gruppo o da un CIG non è così facile risalire a tutta la documentazione per fare vero per fare vero monitoraggio Moliton dirà delle cose sicuramente su questo perché molto spesso ci fermiamo a qualche data qualche scadenza qualche cifra riuscire a avere un quadro completo con tutta la la documentazione di una progettazione della pubblica amministrazione non è così facile alcune pubbliche amministrazioni locali regionali comunali stanno dando un bel contributo ma ancora questo non è garantito io sono orgoglioso di dire che questo tavolo di lavoro le organizzazioni con cui abbiamo parlato la pubblica amministrazione secondo noi a questo giro di tavolo GP hanno creato un po' più cultura del dato cioè siamo partiti dall'obiettivo a cui arrivare e il tecnicismo è stato lasciato un po' più indietro quindi capire cosa serve alle persone ricercatori giornalisti alle imprese concentrarci su quello e fare in modo di raccontare come rendere queste informazioni efficaci scusate mi sono dilungato grazie 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 Andrea si sente ora si si sente bene mi date conferma se 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 l'audio è ok grazie grazie Andrea di aver sottolineato in particolare questo aspetto della della fruibilità dei dati che sappiamo essere uno dei punti come dire che dà impatto che poi dà accountability anche alle amministrazioni e nello stesso tempo di aver raccontato un po' questo lavoro di sistematizzazione che abbiamo che abbiamo realizzato partendo da quello che avevamo naturalmente e poi ti riprendo perché tu parlavi al passato ma insomma le attività non è che si sono concluse abbiamo ancora fino al 31 dicembre come dire da sporcarci le mani quindi mi raccomando non siamo alla conclusione delle attività però adesso passerei la parola a Matteo Forchini del Dipartimento per avere anche da lui come dire le sue impressioni le sue un suo feedback su quanto sulla sua partecipazione ricordo che il Dipartimento è stato uno dei soggetti è uno dei soggetti attivi nell'ambito del gruppo di lavoro proprio nell'attività di arricchimento del semantico della pubblicazione dell'API su BDMD riferite alle gare e ai data che messe a disposizione da ANAC ma anche ovviamente tutta la sua attività che è stata fatta in questi mesi parliamo di PA digitale 2026 quindi molti di voi sapranno conosceranno le iniziative di pubblicazione dei dati delle misure PNRR che sono in capo al Dipartimento quindi chiederei a Matteo di raccontarci un po' il suo il percorso sull'impegno dal loro punto di vista e la prospettiva verso la quale stiamo andando grazie un po' appunto a Regis che si è nel frattempo aggiornata ha pubblicato con sistematicità dati altre fonti informativi stanno proseguendo in questa direzione quindi abbiamo un po' il quadro piuttosto maturo direi per avere la fruibilità e la qualità del dato che mi sembra di intendere il prossimo passaggio su cui dobbiamo puntare Matteo se ci senti mi sentite spero condivido anch'io uno schermo si vede si vede ok grazie allora sì grazie dell'invento eccomi di nuovo si sono di nuovo ok si vede Matteo ti confermo scusate ma si era chiuso allora dicevo grazie intanto per l'invito e sì volevo parlarvi un po' di quello che è l'attività del dipartimento e della e in generale del della piacentrali sulla interoperabilità prima di tutto volevo ricordare un po' a livello generale quello che è l'impegno che c'è stato verso la valorizzazione dei dati si è partito dal CAD 18 anni fa dove si diceva che i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi pubblici accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per arrivare nel 2021 quando si è cominciato a definire la visione della PDND dicendo che si voleva valorizzare il capitale informativo delle PA attraverso l'interoperabilità per servizi pubblici semplici che realizzino il principio once only quindi quello che era un seme buttato nel 2005 si è poi arricchito di informazioni grazie anche alla tecnologia che vanno avanti e a tutte le possibilità che si sono sviluppate importante interoperabilità quindi lavorare insieme e principio once only ci torneremo un brevissimo accenno a che cosa sono le API per l'API perché non è un tema un po' tecnico ma che tutti possiamo capire dal punto di vista della nostra esperienza le API cosa fanno? creano dei contratti fra due diverse entità un'entità dice io ti rispondo se tu mi chiedi le cose in un certo modo a fronte di una richiesta quindi si ottiene una risposta esempio più tipico che possiamo immaginare è il nostro ufficio il desk di un ufficio la reception io porto un modulo lo compilo l'ufficio legge questo modulo e mi ritorna per esempio delle informazioni con un estratto conto o mi fornisce dei servizi cioè l'iscrizione a un corso per esempio quindi attraverso un contratto un'interazione che è determinata da delle un contratto da delle decisioni che vengono prese in comune si riesce a definire un'interazione che è standardizzata ed è efficiente in questo senso la differenza dell'API è che tutto questo viene fatto attraverso delle macchine non attraverso delle persone questo garantisce chiaramente la velocità della macchina ma anche la possibilità di evitare i vari errori di trascrizione i vari errori di lavoro manuale che le macchine sono così brave a non fare l'interoperabilità è la collaborazione fra soggetti diversi quindi anziché lavorare separatamente lavoriamo insieme per fornire procedimenti più efficienti e aggiornati chiaramente le PA interoperavano anche prima ma la velocità dell'interoperabilità e la efficienza dell'interoperabilità dal punto di vista della correttezza e della freschezza del dato quindi della possibilità di evitare errori di non aggiornamento di insolescenza sono chiaramente aumentati qual è l'ecosistema adesso dell'interoperabilità in Italia ci sono tre elementi importanti un primo è la piattaforma digitale nazionale dati che cosa fa va a gestire quello che è la possibilità per le pubbliche amministrazioni di scambiarsi dati e va a autorizzare questo scambio di dati senza entrare all'interno di questo scambio è per questo che vedete che la piattaforma digitale nazionale dati sulla destra è raccontata come una specie di rubinetto che attiva un cancello una leva che attiva un passaggio a livello quindi PD&D non interviene nel trasferimento dei dati ma lo permette di autorizzarlo questo semplifica genera una semplificazione amministrativa quindi non c'è più bisogno di fare accordi fra enti da riscrivere da firmare da passare in tutte le fasi burocratiche e autorizzativa dal punto di vista proprio tecnico il catalogo delle API invece rende disponibili quelle che sono le API pubblicate e le basi dati pubblicate dalle amministrazioni questo cosa fa valorizza le basi dati è una prima valorizzazione chiaramente è l'emergere di quello che è il patrimonio formativo perché se voi andate adesso all'interno della piattaforma PD&D all'interno del catalogo che è ancora in una prima bozza però esiste già un catalogo di quello che è pubblicato su PD&D potete vedere quante API sono già pubblicate all'interno di questa di questa piattaforma quindi la prima valorizzazione è far emergere fare vedere la seconda parte del catalogo delle API è il principio once only cioè devo fornire all'amministrazione al massimo una volta le informazioni e non di più quindi le pubbliche amministrazioni devono raccogliere queste informazioni e condividerle in modo da evitare al cittadino e alle imprese di condividere le stesse informazioni più volte dall'altra parte c'è la terza parte che è schema GOVIT che è il catalogo nazionale della semantica perché vogliamo l'interoperabilità fra gli enti dal punto di vista tecnico quindi gli enti devono parlarsi ma vogliamo anche un'interoperabilità semantica dei dati nel senso che le banche dati devono avere dei concetti al loro interno che siano uniformi quindi se io definisco il codice fiscale in una banca dati la società fiscale chiaramente tutti sanno cos'è ma se definisco il nome in una banca dati devo sapere che quel nome è nome proprio e non il nome cognome per esempio in un'altra banca dati quindi avere modi standardizzati per definire quelli che sono i contenuti delle banche dati e anche le possibilità di valore per esempio se io identifico qual è l'elenco dei titoli di studio dentro a schema GOVIT tutti possono utilizzare questo elenco di titoli di studio per definire una banca dati e non devono inventarsi altri elenchi che non sono standard e quindi rendono le banche dati meno interoperabili e meno valorizzabili quindi si passa da i silos da una parte vedete i silos che non si parlano fra di loro e sono magari isolati contengono dati ma non si parlano fra di loro a una rete di interoperabilità quella che vedete in alto a destra è una prima tentativa di visualizzazione con i dati che abbiamo adesso sul traffico all'interno di PDND sulle richieste di token autorizzativi di PDND fra le varie pubbliche amministrazioni che accedono ai servizi e in particolare in alto a destra ho identificato il link fra INAD e ANPR perché questo è il primo caso d'uso che da zero ha fatto partire un'interoperabilità quindi mentre altre interoperabilità come ANPR per esempio sono già sono trasferimenti di sistemi di interoperabilità precedenti in nuovi sistemi INAD che è un nuovo progetto sta sfruttando già i servizi di ANPR per alcune cose e ne sfrutterà sempre di più quindi già dialoga come si accompagna la trasformazione digitale a livello centrale facendo norme regole tecniche qui c'è anche Agile con quale chiaramente Agile dà la titolarità delle missioni delle regole tecniche si collabora sulla scrittura di queste regole tecniche quindi i pattern che si devono utilizzare qual è la standardizzazione come si autentica il suo PND quali sono l'utilizzo della semantica all'interno di queste standardizzazioni le piattaforme centrali aiutano la trasformazione perché danno una piattaforma su cui appoggiare servizi i fondi del PNRR si diceva prima Ugo la PIA Digitale 2026 è un progetto che ha fondi PNRR proprio per finanziare la pubblicazione di API da parte degli enti e il supporto a progetti complessi per esempio il nuovo codice dei contratti pubblici di cui vi parlerò successivamente nel caso di PIA Digitale 2026 abbiamo due in questo momento due avvisi che sono fuori uno per i comuni la pubblicazione di API da parte dei comuni e un altro la pubblicazione di API da parte di università e altri enti di formazione superiore da una parte ai comuni sono stati proposti dei casi d'uso e se andate a vedere sul catalogo alcuni comuni hanno risposto con API che sono corrispondenti a questi casi d'uso altri no nel senso che la misura non vincolava il tipo di API da pubblicare ma dava solo finanziamenti per pubblicare API sulla piattaforma e registrarsi sulla piattaforma da una parte uno dei casi d'uso è stato quello dei servizi sociali welfare per alimentare il sistema CIUS diciamo alla rovescio nel senso che i comuni forniscono delle API da cui IMS va a prelevare i dati per il CIUS se il sistema informativo unitario dei servizi sociali che servirà per riuscire ad avere servizi sociali più equi più progettati più correttamente e che possano avere informazioni su quello che è lo stato dei servizi per ogni persona dall'altra parte lo scambio di documenti protocollati anche questo nelle linee guida sui documenti informatici Agida ha aggiornato le loro definizioni di API che sono nell'allegato 6 delle linee guida per utilizzare PDND e i nuovi protocolli REST anziché i SOP che utilizzavano prima l'altra proposta che è stata fatta ai comuni sono API geografiche che utilizzano le standard di Inspire o la GC per pubblicare dati geografici altri temi che sono venuti anche da questo tavolo sono la pubblicazione di dati dell'albo pretorio e della trasparenza in questi casi c'è stato più difficoltà a trovare una standardizzazione di quelle che sono le pubblicazioni però l'idea è appunto più API più questi dati sono trasmessi attraverso API e sono standardizzati più è possibile fare analisi ed avere una trasparenza più fruibile da parte di tutti lato università di formazione dell'istituto di formazione superiore invece stiamo sviluppando con loro le API perché saranno tutte uguali sono dedicate soprattutto al progetto ANIS l'anagrafe nazionale dell'istruzione superiore che in questo momento è già pubblico per una serie di titoli di studio e in questi casi le università dovranno pubblicare API con l'offerta formativa la possibilità di vedere i titoli e le iscrizioni di una persona chiedere le rettifiche di titoli di iscrizioni questo è un tema di interfazio utente di esperienza utente le variazioni avere la lista delle variazioni dei titoli e delle iscrizioni per aggiornare la banca dati di ANIS e alcune statistiche che possono essere interessanti per il ministerio o per chi deve fare azione di controllo o di verifica per andare a vedere o programmazione per andare a vedere quali sono il numero di studenti qual è lo stato dell'arte di IPDND ottobre 2022 è partita la piattaforma è attiva ed è stata sviluppata da Pago.pa da ottobre 2022 è stato pubblicato l'avviso per i comuni con 111 milioni di euro per pubblicare appunto le API e ci sono già domande da 6202 comuni su 7900 circa quindi un numero piuttosto alto il 22 novembre è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto ministeriale che obbliga e dai termini di accreditamento alla PDND alcuni obblighi scadono in queste settimane quindi le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare le proprie basi dati su PDND chiaramente iniziando da quelle che hanno già in interoperabilità a dicembre 2022 è stato pubblicato l'avviso per regioni e province in questo caso non è stato non sono stati forniti casi d'uso ma è stato finanziato per 50 milioni di euro l'avviso per regioni e province autonome per la pubblicazione anche da parte loro di API è stato pubblicato l'avviso per l'università con 31 milioni di euro di cui dicevo invece si stanno sviluppando le API in modo molto rigoroso insieme proprio alle università sarà successivo l'ingresso dei privati come fruitori di servizi dell'APA perché chiaramente i privati sono interessati a entrare in questa in questa piattaforma per avere alcuni dati per esempio anche sui decessi in alcuni casi e poi ci sarà tutto la stipula dei nuovi accordi e l'evoluzione della piattaforma in questo momento ci sono quasi 3.000 enti già attivi sulla PDND 671 API in produzione e da quando la piattaforma operativa ma fondamentalmente da luglio di quest'anno sono stati staccati 8 milioni di token quindi la piattaforma in questo senso è stata utilizzata questo è un po' la lista di quelli che sono tutti le PA centrali che sono in questo momento coinvolte nella pubblicazione di API su PDND quindi come vedete un numero significativo ma soprattutto la cosa interessante e importante è che PDND da un progetto nato varato nell'ottobre 2022 come prima attività è diventata una pietra d'angolo una pietra su cui appoggiare altri progetti il caso delle procurement della richiesta dei dati per le procurement è stata da subito appoggiata il progetto procurement su PDND quindi lo scambio di dati è stato da subito appoggiato su questa piattaforma le nuove anagrafi sono già interoperabili by design e il single digital gateway che è la piattaforma digitale di trasmissione di dati trasfrontaliera per dare servizi ai cittadini europei è appoggiata sulla piattaforma PDND in particolare legata anche al piano d'azione il codice dei contratti pubblici da subito ho detto che la banca dati nazionale dei contratti pubblici lo dico perché è un'evoluzione in corsa anche del progetto del quinto piano d'azione nel senso che il quinto piano d'azione dice pubblichiamo la banca dati nazionale dei contratti pubblici e utilizziamo lo standard cds e lo documentiamo semanticamente sulla piattaforma schema ma questo è ancora in corso mentre la pubblicazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici è stata scritta all'interno del articolo 23 del decreto del codice dei contratti e è già stato scritto che deve essere interoperabile che deve appoggiarsi sulla piattaforma digitale nazionale dati e deve essere legata e questo è legato anche al decreto legislativo numero 33 che è il decreto trasparenza quindi già nel codice di appalti è stato previsto tutto l'iter di pubblicazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici su pdnd in modo interoperabile con anche la trasparenza per darvi l'idea della dimensione del codice dei contratti pubblici questo è quello che si sta mettendo in piedi e che tutti gli enti coinvolti quindi lo cito perché chiaramente queste banche dati sono banche dati che riguardano una pubblica amministrazione e prima di tutto verranno pubblicate per l'uso da parte delle pubbliche amministrazioni e per l'uso di questa piattaforma però come si diceva valorizzare un primo modo di valorizzare è anche evidenziare le banche dati e pubblicarle sulla piattaforma il fatto che tutte queste questi enti certificanti tutte queste banche dati siano coinvolte all'interno delle piattaforme di Approcomment significa che tutte queste banche dati hanno una grossa spinta e dei ritmi molto alti per la loro pubblicazione su pdnd tramite api in interoperabilità questo significa che poi successivamente si potrà anche andare a ragionare di altri tipi di apertura guardando il futuro cosa vediamo bisogna ampliare migliorare il catalogo il catalogo deve diventare avere un'esperienza utente migliore di quella che adesso e diventare anche una sorta di marketplace riuscire a studiare quali sono poco tempo fa qualcuno in un convegno ci ha detto deve diventare un po' fruisci di queste due banche dati perché non vai a guardare anche quest'altra al di là di questa battuta deve diventare un po' un'analisi di utilizzo e di fruizione dei dati in modo da riuscire a capire quali sono i dati più utili per ciascun ente aumentare la comunità di sviluppo quindi condividere i problemi di soluzione del codice pubblicare metriche di funzionamento come è stato fatto per NPR come è stato fatto per PA digitale pubblicare open data e una dashboard che ci permetta di vedere l'utilizzo della piattaforma aumentare il numero di anagrafi archivi nazionali quando servono come NPR come ANIS a cercare di centralizzare quando i clienti sono troppo numerosi o distribuiti immagino che Antonio Rotundo di Agile ne parlerà il tema open data il tema high value dataset l'anno prossimo scade la pubblicazione di una serie di basi dati come API all'interno che dovranno essere pubblicate anche all'interno della piattaforma e quindi l'obiettivo è cercare di avere una pubblicazione unica che permetta poi della pubblicazione su tutti quelli che sono i cataloghi dati.gov geodati.gov eccetera l'accesso da parte dei soggetti privati che lo dicevo prima ha bisogno di capire come l'autorizzazione i casi d'uso perché chiaramente finché sia all'interno dell'APA è un conto ma quando si esce è un altro PDND viene interessata cioè sta diventando interessante che per standard di per locali ci sono associazioni che stanno utilizzando per esempio il sito open source si ha chiesto di usare le linee di guida di interoperabilità per pubblicare le loro API e questo è già un segno che sono API cioè sono linee guida che hanno un senso anche per chi non è parte dell'APA ma anche comuni o enti che ci chiedono di usare il PDND per far parlare i loro diversi sistemi che sono su cloud diversi o su fornitori diversi il nuovo European Interoperability Framework che viene aggiornato e quindi vorremmo che fosse corrispondente a quello che abbiamo scelto e magari anche utilizzasse le nostre soluzioni perché ci crediamo e l'ultima cosa è l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici perché c'è il tema del once only ma c'è anche il tema di far capire al cittadino quando i dati vengono prelevati da una fonte esterna e come puoi gestire queste cose per esempio vi dicevo prima la rettifica perché se io vado su Anis e trovo il mio dato del titolo di studio sbagliato devo poter chiedere la rettifica perché a quel punto quella diventa la mia fonte dati principale è autoritativa mi fermo poi se chiaramente ci sono domande vi ringrazio tanto grazie grazie Matteo grazie di aver fatto scelto in particolare alla misura che state gestendo di supporto per la pubblicazione degli API da parte dei comuni che insomma mi sembra un passaggio importante proprio nell'ottica della standardizzazione della omogenizzazione dei processi di pubblicazione dei dati tutto questo poi ha beneficio naturalmente del riutilizzo perché non dimentichiamoci che poi appunto l'obiettivo è quello di avere dashboard dati facilmente fruibili consultabili da chiunque quindi questo è un passaggio importante andrei a completare il quadro regolatorio e come dire di contesto chiamando in causa Antonio rotondo per quanto riguarda le domande voi chiunque ne voglia proporre scriveteci le pubblicatele noi al termine della mattinata troveremo il tempo per appunto breve confronto tra noi e anche rispondere alle domande però vorremmo prima chiudere un po' questi momenti di presentazione dei risultati e dei confronti successivamente sulla parte territoriale e di esperienze e casi concreti e poi dopo appunto confrontarci insieme a tutti i partecipanti si Antonio mi sente ci sei Antonio si mi sentite ok perfetto forte e chiaro a te come dire il completamento della parte regolatoria e di governance su questo tema che insomma serve proprio a capire in quale contesto ci si muove ora ma soprattutto ci si muoverà nei prossimi mesi grazie Ugo buongiorno a tutti sono state richiamate più volte negli interventi precedenti da un paio di mesi sono in vigore le nuove linee guida open data quindi che vanno ad attuare una specifica disposizione della norma di ricepimento della direttiva open data del 2019 che dava appunto ad Agid il compito di definire le regole tecniche per l'applicazione del decreto di ricepimento come saprete hanno seguito un iter che è definito dalla norma quindi l'articolo 71 del CAD in alcune fasi diciamo questo iter diventa un po' più lungo però diciamo ce l'abbiamo fatta e quindi sono state adottate a inizio agosto con determinazione del direttore generale di Agid le linee guida si inseriscono come dicevo in un framework che si sta costruendo non solo a livello nazionale ma a livello europeo perché come sapete negli ultimi anni a livello europeo stanno definendo una serie di regole di documentazione tecnica volta a rendere i dati disponibili a tutti tanto che l'Europa parla di mercato dei dati volendo dire che i dati devono essere disponibili per riutilizzo a tutti i livelli e quindi riutilizzabili da tutti per tutti gli scopi in modo tale che si crei appunto economia quindi la finalità del dato aperto come sappiamo è il riutilizzo se il dato non viene riutilizzato alla fine è fallito l'obiettivo per cui quel dato è stato aperto si collega come dicevo a questo ambito più generale più di livello europeo visto che da quattro giorni è applicabile anche il Data Governance Act che non riguarda gli Open Data ma va a completare diciamo tutte le regole che riguardano i dati tra l'altro il Data Governance Act introduce anche il concetto diciamo di altruismo dei dati come sapete probabilmente deve essere comunque attuato anche in Italia nel senso che si devono individuare tutte le autorità che poi vanno ad applicare le regole del Data Governance Act le linee guida adesso non mi soffermo su tutti gli aspetti che coprono le linee guida ma se c'è interesse su qualcuno in particolare ovviamente sono disponibili coprono diversi aspetti da requisiti comuni che valgono per tutte le tipologie di dati di dati aperti a requisiti che sono specifici per alcune tipologie di dati che vengono individuate dalla stessa direttiva e che la direttiva stessa individua come dati che se aperti possono hanno un grosso potenziale sociale economico e quindi possono creare diciamo l'occasione di sviluppo di servizi a valore aggiunto poi c'è il tema del licensing quindi il framework del licensing nazionale questo è un aspetto che evidenzierei perché io mi ricordo in tutti questi ultimi anni che c'era una discussione su come definire una licenza nazionale con quale strumento se un decreto una norma diciamo che abbiamo abbiamo colto l'occasione delle linee guida che come sapete sono vincolanti per le pubbliche amministrazioni perché comunque è una norma che deriva da un decreto legislativo che la collega al CAD e quindi poi c'è tutto il discorso dell'attuazione del monitoraggio anche che tutti possono fare sull'applicazione quindi abbiamo colto l'occasione delle linee guida per definire questo framework di licensing per cui abbiamo definito delle licenze che per i nuovi dati devono essere applicate da tutte le pubbliche amministrazioni con la raccomandazione di adeguare le licenze per i dati pregressi a queste nuove indicazioni caso avvoluto non lo so abbiamo anticipato se vogliamo perché poi il regolamento sui dati di elevato valore che citava Matteo ha confermato diciamo l'utilizzo delle stesse licenze che noi però diciamo di applicare per tutte le tipologie di dati quindi siamo allineati in questo anche il regolamento sui dati di elevato valore di cui dirò poi qualcosa alla fine poi ovviamente c'è anche l'aspetto che riguarda la pubblicazione in questo collegandomi a quello che diceva Matteo chiaramente non ci siamo inventati niente nel senso l'approccio che abbiamo utilizzato nel definire le linee guida è quello di fare riferimento a regole tecniche qualora già esistenti nel senso la direttiva e quindi il decreto di ricepimento per alcune tipologie di dati obbliga a rendere disponibile API per rendere disponibile appunto quei dati e parlo per esempio di dati dinamici e dati di elevato valore per i quali come detto c'è l'obbligo di implementare API in quel caso in Italia abbiamo detto che il riferimento per l'API e quindi per l'attuazione di questa disposizione derivante dalla direttiva europea era tutto il modello di interoperabilità creato in Italia a partire dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica ad arrivare poi alla PDND al corte di cui ha parlato poi Matteo in precedenza mi volevo soffermare però come focus sugli elementi di partecipazione visto anche il contesto nel senso io ho parlato dell'iter di adozione delle linee guida come sapete questo iter prevede anche la partecipazione di tutti alla definizione di questa linee guida cioè è prevista per norma una consultazione pubblica di 30 giorni cosa ovviamente che abbiamo fatto nel caso delle linee guida Open Data siamo andati oltre se vogliamo perché comunque a parte che abbiamo utilizzato diversi strumenti per far partecipare quanto più soggetti possibili in più abbiamo organizzato proprio un percorso di informazione di formazione che è partito molto prima dal rispetto alla consultazione pubblica e si è dilungato anche dopo la consultazione pubblica noi nell'arco del 2022 Ugo ne sa qualcosa perché era il moderatore dei webinar sempre presente e quindi nel corso del 2022 e anche i primi mesi del 2023 abbiamo tenuto una serie di webinar proprio per illustrare ancora prima che fosse pubblicata addirittura la prima bozza di linee guida che poi sarebbe andata in consultazione pubblica per illustrare proprio il contenuto delle linee guida lo abbiamo fatto anche coinvolgendo altre pubbliche amministrazioni per esempio ANAC l'abbiamo coinvolta più volte proprio per evidenziare le buone pratiche che già esistono rispetto ad alcuni aspetti che sono coperti dalle linee guida abbiamo però interessato in questi incontri anche società civile per esempio il caso dei open police abbiamo accademia per esempio il caso delle università che comunque producono e pubblicano dati anche basandosi su altri dati aperti della pubblica amministrazione e così via quindi è stato un percorso partecipativo che abbiamo comunque voluto valorizzare volutamente valorizzare e che poi ci ha dato diciamo così la soddisfazione di vedere un grosso numero anche di partecipanti di osservazioni di commenti alle linee guida abbiamo fatto un confronto così giusto a livello informativo con altre linee guida non si era mai arrivati a una partecipazione così rilevante diciamo in caso di linee guida ci sono però elementi di partecipazione anche nelle linee guida stesse nel senso che il decreto legislativo che recepisce la direttiva ha riformulato tutte le disposizioni che riguarda le richieste di utilizzo cioè tutti quanti possono quindi la società civile i cittadini le imprese altre pubbliche amministrazioni possono richiedere alle pubbliche amministrazioni di aprire dati che ancora non sono aperti qual è la novità che c'è comunque un percorso e quindi una procedura definita e con tempi chiari e prestabiliti nel senso il decreto e quindi poi le linee guida ovviamente dettagliano ulteriormente c'è un tempo stabilito e chiaro perché la pubblica amministrazione risponda a queste richieste di utilizzo come dico io queste richieste poi sortiscono l'effetto che quei dati saranno effettivamente riutilizzati dicevo all'inizio che lo pendete al senso se viene riutilizzato chiaramente se la richiesta viene dalla società civile da chi è interessato diciamo a utilizzare quel dato quel dato è sicuro che sarà riutilizzato a differenza di altri di di altri casi queste richieste di utilizzo poi noi le abbiamo inserite anche come suggerito ovviamente una raccomandazione come come criterio di priorità nell'apertura dei dati cioè noi abbiamo raccomandato alle amministrazioni di costruire di definire un percorso di apertura ma anche triennale magari ricalcando un po' la struttura anche del piano triennale quindi con obiettivi con risultati attesi con target con ovviamente target che poi sono misurabili quindi sono monitorabili e per definire per diciamo identificare i dati che tra i tanti che producono le comunità amministrazioni che prioritariamente devono essere aperte abbiamo inserito proprio le richieste che vengono dalla società civile per queste priorità ovviamente in aggiunta anche alla alle tipologie dei dati che la direttiva dice che sono di elevato valore oppure che hanno un potenziale economico come i dati dinamici o i dati della ricerca quindi questi sono i criteri di priorità che abbiamo raccomandato e poi abbiamo legato anche tra questi criteri di di priorità si parlava prima di trasparenza abbiamo collegato diciamo il discorso dell'apertura dei dati anche alla trasparenza come sappiamo non sono concetti completamente sovrapponibili nel senso io posso fare trasparenza anche senza fare dati aperti nel senso io pubblico i dati ma ho fatto trasparenza ovviamente l'apertura dei dati abilita poi la trasparenza però c'è una norma poi nel decreto trasparenza che dice che tutti i documenti e i dati che devono essere pubblicati obbligatoriamente dalle pubbliche amministrazioni ai fini della trasparenza devono essere resi disponibili come open data quindi noi abbiamo detto siccome in quel caso c'è l'obbligo della pubblicazione chiaramente segui le linee guida open data anche in quei casi quindi abbiamo collegato anche a quella normativa relativa alla trasparenza e poi a livello anche un ulteriore elemento di partecipazione è fatto lo citavo prima che chiaramente l'applicazione delle linee guida può essere monitorata anche da chiunque quindi dai cittadini dalle imprese perché si può segnalare tramite il difensore civico come sapete la mancata applicazione delle indicazioni che le linee guida hanno dettato in questo caso noi abbiamo suddiviso alcune indicazioni obbligatorie chiamandole requisiti ovviamente per distinguere da alcune che sono raccomandazioni per cui è un suggerimento all'amministrazione per rendere più efficiente e più efficace il processo però è chiaro che se l'amministrazione sceglie altre strade possono essere ugualmente valide cosa stiamo facendo ovviamente ci sono alcuni strumenti da adeguare perché il profilo metadati deve essere adeguato anche agli aggiornamenti che vengono dal contesto europeo come sapete i cataloghi dei dati sono di titolarità di Agile questo è collegato anche al discorso dei dati di elevato valore nel senso che da gennaio è stato adottato il regolamento che citava Matteo sui dati di elevato valore quindi il 138 del 2023 che stabilisce puntualmente quali sono quei dataset che rientrano nelle categorie di dati di elevato valore che erano state definite dalla direttiva su questo stiamo lavorando insieme quindi questa è un'anticipazione diciamo su cosa stiamo lavorando stiamo lavorando con le amministrazioni che sono titolari di quei dati identificati dal regolamento per verificare con loro come procedere nell'applicazione poi del regolamento quindi individuare eventuali vincoli normativi che magari ci sono a livello nazionale vincoli tecnici e altre limite che potrebbero diciamo inibire la pubblicazione dati aperti e quindi non adempiere a quanto richiesto dal regolamento è un percorso che stiamo costruendo come dicevo con le altre pubbliche amministrazioni che poi sfocerà in una guida operativa proprio dedicata ai dati di elevato valore che è prevista e che abbiamo inserito nell'ultimo aggiornamento del piano triennale 2022-2024 oltre che essere inserita anche come possibilità nelle linee guida open data io credo di aver fatto un po' il quadro collegandolo spero anche al contesto in cui siamo però sono disponibile per approfondimenti richieste grazie grazie Antonio perfetto grazie sì ottimo ha fatto benissimo a darci un po' questo quadro anche sui dati ad elevato valore insomma mia impressione è che il tutto converge verso un quadro sistematico coerente sia diciamo un senso più lato sui dati frutto dell'attività delle amministrazioni sia sul fronte invece più ristretto che stiamo un po' approfondendo oggi sugli investimenti pubblici e quindi sulla capacità e la possibilità di monitorare dall'esterno progetti di investimenti PNRR o meno che poi sono tante le misure di cui sappiamo essere in campo quindi ottimo grazie per la tua presenza e per questa indicazione ora passerei a Chiara Ricci qui affianta a me del MEF che in qualche modo ci dà un po' il quadro se vogliamo un po' più verticale sugli aspetti del piano e delle attività di quello che hanno realizzato e svolto in questi mesi cercando sempre appunto di capire come far convergere anche rispetto alle progettualità e alle attività che abbiamo realizzato nell'ambito dell'azione 502 che ripeto voleva essere una sorta di layer intermedio su cui poi tutti i vari soggetti si possono agganciare per approfittare di un modello standard omogeneo per la pubblicazione dei dati quindi la ringrazio grazie Chiara per la vostra presenza e a te la parola sì grazie a tutti buongiorno e quello che farò appunto è illustrarvi una breve presentazione di quanto è stato fatto in relazione alla pubblicazione dei dati relativi al PNRR da parte della ragioneria dello Stato vedete la presentazione adesso non so se sì perfetto allora quello che mi preme dirvi è che ovviamente sì abbiamo ricevuto grandissima pressione da parte della società civile giustamente insomma il PNRR è al centro del dibattito pubblico riscuote molto interesse e molta attenzione in realtà fin dall'inizio c'è stato l'impegno da parte del del governo dell'amministrazione di pubblicare questi dati in formato aperto infatti fin dalla legge di bilancio insomma si prevedeva che i dati rilevati dal sistema di monitoraggio fossero resi disponibili in formato elaborabile e c'è stato poi successivamente anche un DPCM che ha definito modalità tempistiche e strumenti per la rilevazione di questi dati e appunto il MEF in particolare tramite la ragioneria del generale dello Stato si era impegnato a rendere accessibile in formato elaborabile i dati sull'attuazione finanziaria fisica e procedurale relativi a ciascun progetto e anche in relazione al milestone e target perseguiti in realtà però ci sono state delle iniziali difficoltà date alla complessità del sistema di monitoraggio perché insomma quello che è molto citato il sistema Regis è lo strumento unico attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali devono adempiere proprio gli obblighi di monitoraggio di contazione e controllo di tutti i progetti realizzati in ambito PNRR e quindi per la prima volta diciamo si tratta di uno strumento di tipo gestionale nel senso che è proprio lì dove vengono effettuati i controlli è proprio lo strumento che poi serve da tramite per trasmettere l'informazione alla Commissione Europea e quindi abbiamo un sistema che doveva era necessario creare un sistema che fosse tempestivo a differenza diciamo degli altri sistemi già esistenti di cui la ragioneria aveva un'ampia esperienza appunto quello relativo alle politiche di coesione o alle politiche di investimento nazionali del MOP che però insomma diciamo la tempestività non era un requisito così stringente come invece in questo caso e in più in realtà il PNRR è il primo piano di performance diciamo che viene attuato che viene attuato dalla politica e quindi si tratta anche di monitorare proprio elementi diversi rispetto a quanto veniva fatto in precedenza i milestone e i target quindi prevedere tutto un sistema di gestione e rendicontazione relativo al conseguimento di questi di questi obiettivi poi non si partiva da zero nel senso appunto abbiamo detto ci stavano già altre banche dati con cui però doveva essere creata ex novo questa interoperabilità che pone significative sfide su cui stiamo stiamo ancora lavorando appunto soprattutto l'interoperabilità con il sistema SIMOC di ANAC relativo a tutta la gestione dei contratti pubblici ma anche quello con altre banche dati appunto già all'interno di ragioneria soprattutto per quanto riguarda anche i progetti in estero nel senso che c'erano già un ampio parco di progetti che veniva monitorato tramite altri sistemi quindi la difficoltà di individuare questi progetti la difficoltà di capire come farli transitare dentro al sistema quali fossero quindi si trattavano di sfide che insomma hanno richiesto significativi sforzi oltretutto poi il processo di gestione di accompagnamento da parte dei soggetti attuatori verso i soggetti attuatori e le amministrazioni titolari nel fare in modo che iniziassero a confluire i dati al sistema e ovviamente è un processo ancora in itinere nel senso per quanto il PNRR sia uno stato di avanzamento significativo l'attività sul miglioramento della qualità dei dati e la completezza è ancora in corso e su questo insomma è necessario sicuramente un lavoro congiunto che richiede la collaborazione sia di tutte le altre amministrazioni sia delle stesse società civile che appunto analizzando questi dati può contribuirle al loro miglioramento e in più appunto un'attività che ci prema è quella di garantire che sia rispettato il principio di unicità dell'invio e questo diciamo non è sempre immediato dal momento che appunto proprio la necessità di avere dati tempestivi richiede in alcuni casi di cioè farebbe protendere in alcuni casi per richiedere ex novo l'informazione mentre invece insomma si sta cercando di lavorare in direzione del principio di unicità dell'invio è già stato anticipato che appunto proprio ieri sul catalogo vendata di Italia domani che è il portale unico che raccorda la pubblicazione di tutte le informazioni relativa al PNRR e quindi al piano nazionale di ripresa di resilienza italiana vengono pubblicate e aggiornate periodicamente e nel catalogo pendata che è la sezione specifica che diciamo addempia gli altri normativi di pubblicazione vengono periodicamente aggiornati i dataset con un miglioramento progressivo sia della quantità e della qualità delle informazioni che vengono pubblicati e quindi insomma vi invito a affacciarvi sul portale a sfogliare questa sezione per vedere che cosa c'è e quali sono al momento le informazioni disponibili che ci permettono di capire l'attuazione del piano nazionale vi faccio una breve panoramica di quali sono i dataset attualmente pubblicati principalmente si dividono in due categorie quelli relativi alla programmazione e alle misure del PNRR dove appunto diciamo forse uno dei punti di riferimento uno dei dataset di riferimento più utili è quello del quadro finanziario del PNRR che quindi ripartisce tutti i finanziamenti assegnati alle varie misure e componenti diciamo secondo quanto è stato stanziato nel decreto poi di ripartizione proprio delle risorse del piano e diciamo è quindi il riferimento di quello che poi dovremmo avere monitorato a livello di progetti in gran parte perché appunto tutte le risorse devono poi essere allocate e quindi ci deve essere una corrispondenza con le informazioni presenti in Regis e quindi poi ci stanno appunto delle informazioni quindi relative alla programmazione e alle misure del PNRR e poi il grande sforzo adesso è questo relativo alla pubblicazione dei dati sui progetti e all'attuazione e quindi il dataset chiave è quello dei progetti che poi si collega diciamo tramite una chiave e ovviamente qui serve un po' di dimestichesta sui dati appunto non solo dal punto di vista della loro gestione dal punto di vista dell'elaborazione eccetera ma anche una minima conoscenza di quale sia la comprensione il fenomeno economico che c'è dietro e tutta la filiera di come avviene il monitoraggio diciamo proprio nell'ambito di gestione di un progetto di investimento e quindi tramite una chiave che poi è quella che identifica il singolo progetto che per quanto riguarda il PNRR non è solamente il CUP ma anche il codice locale progetto che è questo codice gestionale diciamo che si collega al CUP e che può avere una relazione diciamo più codici CLP per CUP e quindi per questo è importante considerarli tutti e due ci si può collegare poi agli altri dataset con le informazioni sui soggetti la localizzazione le gare del PNRR le agilicatarie subappaltatori e gli indicatori quindi tutte le informazioni relativi agli indicatori target e agli indicatori comuni dove appunto gli indicatori target è questa variabile che poi sarà strategica per capire effettivamente il conseguimento degli obiettivi del PNRR e ovviamente diciamo abbiamo intenzione di arricchire la pubblicazione di questi dataset anche con con quello relativi alle informazioni sull'avvalanzamento dei pagamenti dell'iter procedurale e poi anche a una tabella di raccordo che diciamo in qualche modo mette in evidenza il legame tra il valore degli indicatori e il contributo del progetto dei progetti diciamo al target alle milestone e ai target nel senso che ovviamente diciamo adesso nel file indicatori per esempio c'è scritto quanto un progetto costruisce in termini di ferrovie di chilometri di ferrovie realizzati e diciamo tramite questa tabella di raccordo sarà possibile avere poi evidenza di qual era poi il target da realizzare che deriva insomma dalla sommatoria dei progetti una cosa che mi prego in chiarirvi e che ovviamente ci rendiamo conto non è immediatamente comprensibile a chi si interfaccia con i dataset è che i dataset vengono pubblicati diciamo sia in relazione ai progetti validati che in relazione all'universo Regis e questo per diciamo per un cittadino per chi si approccia e vuole conoscere le informazioni relative al PNRR diciamo a volte magari non sa quale dataset consultare quello che vi dico è appunto spiegato nei metadati ma se facciamo un rapido passaggio può essere utile i progetti validati sono quelli che hanno fatto hanno superato in qualche modo un controllo informatico di coerenza tra le informazioni e quindi e si presuppone anche che siano state in qualche modo controllate dall'amministrazione titolare e quindi dovrebbero essere il dataset un po' più consolidato però in realtà diciamo ci stiamo rendendo conto che se funziona dal punto di vista informatico questo passaggio dal punto di vista amministrativo non c'è ancora una piena consapevolezza da parte delle amministrazioni titolari sulla verifica effettiva del parco progetti che validano eccetera quindi insomma è un processo che si andrà rafforzando e crescono infatti crescono periodicamente il numero dei progetti validati ma in realtà se uno vuole avere un'idea di cosa c'è in Regis a livello complensivo allo stato attuale diciamo può fare riferimento al dataset dell'universo che magari contenerà alcuni progetti che poi usciranno dal PNRR ma è sicuramente insomma il dataset più utile ai fini della ricerca per avere una comprensione generale una cosa che mi preme ricordare è anche che diciamo i progetti presenti in Regis quindi quelli individuati come CUP CLP sono quelli diciamo più affidabili su come è lo stato dell'arte in quel momento nel senso poi confrontando questo con il dataset per esempio di OpenCUP dei progetti classificati come PNRR non troverete una piena corrispondenza nel senso perché quelli sono dati di programmazione nel momento in cui nasce il progetto mentre invece poi ci possono essere dei cambiamenti un progetto può appunto non essere effettivamente finanziato con risorse PNRR quindi insomma il riferimento al dataset dei Regis è sicuramente quello più più solido per quanto anche questo sia soggetto ad alcune variazioni questo è un breve scenotecnico nel senso abbiamo detto che il CUP CLP è la chiave che raccorda l'informazione del dataset progetti con tutti gli altri e nel dataset progetti abbiamo informazioni sul finanziamento sul soggetto attuatore se si tratta di un progetto onestero o meno e diciamo il progetto li è riportato univocamente quindi il numero dei progetti nei file progetti è effettivamente quello che è presente in Regis mentre invece negli altri dataset un progetto può essere riportato più volte ad esempio se ha una localizzazione multipla o se ha più soggetti che concorrono a quell'attuazione se ha più CIG collegati a quel progetto quindi insomma ovviamente bisogna un po' lavorare i dataset con un minimo di competenze e tecniche per desumere tutte le informazioni che si vuole ed evitare moltiplicità e ripetizioni degli importi finanziari soprattutto qualche brevissimo cenno a che cosa c'è al momento appunto sono appena stati pubblicati ieri i dati con le informazioni relative a quanto emergeva all'8 settembre adesso abbiamo un significativo parco di progetti oltre 200 quasi 220 mila per quanto riguarda l'universo 123 mila per quanto riguarda i progetti validati in alcuni casi diciamo l'informazione sul numero di progetti non ci dice però qual è la copertura rispetto alle finanziamenti assegnati nel senso per esempio per la missione M3C1 che è quella relativa ai trasporti abbiamo un basso numero di progetti che potrebbe far pensare che lì l'informazione non c'è ma se invece andiamo a vedere confrontando poi il dato con le risorse finanziarie stanziate diciamo si tratta dei grandi progetti ferroviari che quindi ovviamente invece hanno un tasso di copertura diciamo anche rispetto a quanto è stato stanziato molto buono e al momento appunto i finanziamenti PNRR dell'universo vargono circa 120 miliardi sappiamo che ci sono delle cose che devono essere ancora acquisite all'interno di Reddus per esempio stiamo parlando dei grandi incentivi dell'eco bonus eccetera perché appunto pure lì di che sono insomma si tratta di crediti d'imposta quindi è fatto tutto un lavoro su come possono essere tracciati diciamo con il tutto e queste informazioni quindi ancora diciamo devono confluire al sistema e stiamo lavorando con le con le amministrazioni per fare in modo che insomma in tempi rapidi questa copertura aumenta perché insomma ovviamente il PNRR è uno stato avanzato e ancora diciamo non è soddisfacente che al momento per alcune dimensioni il parco progetti diciamo non copra non arrivi insomma al 30% delle risorse stanziate e qui invece un dato fondamentale per capire l'attuazione del piano è vedere quanto sta come stanno avanzando le gare e diciamo anche qui il sistema soffre un po' il fatto che l'interoperabilità con ANAC è stata sviluppata e quindi diciamo confluiscono dentro al sistema di monitoraggio le informazioni sull'associazione del CIC che è il codice che identifica la gara al CUP che è il codice che identifica il progetto però diciamo serve un passaggio ulteriore da parte di validazione da parte dell'utente e quindi diciamo anche perché appunto c'è proprio c'è il CLP all'interno di Regis e quindi non poteva essere fatta in modo automatico questa associazione e quindi diciamo se si va a confrontare se si vanno a vedere i CUP PNRR all'interno del dataset di ANAC si vedrà che ci sono anche ulteriori associazioni a CIG e quindi stiamo lavorando anche su questo per cercare di avere una copertura dell'informazione più elevata e fare in modo che il dataset gare diciamo sia più esaustivo anche perché ci sono dei target che devono essere conseguiti proprio relativi all'aggiudicazione entro la fine dell'anno quindi insomma questi i prossimi mesi saranno molto intensi da questo punto di vista e un altro aspetto su cui ci stiamo diciamo focalizzando dal punto di vista amministrativo per aumentare la copertura e la qualità del dato è quello relativo agli indicatori che è questo diciamo variabile strategica e quindi verranno fatti degli incontri con le amministrazioni per avere proprio questo dato quantitativo compilato in modo più soddisfacente rispetto ai datoset che abbiamo reso disponibili al momento diciamo la pubblicazione siamo riusciti a fare l'aggiornamento dei dati è stato fatto trimestralmente diciamo puntiamo a rafforzare questi sforzi anche se ci sono appunto delle insomma ci sono tutto dei processi che vanno gestiti e insomma ovviamente la collaborazione di tutti è benvenuta per fare in modo che ci sia una migliore qualità dei dati prospettati se avete domande siamo qui grazie 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 Chiara insomma qui abbiamo un luogo di confronto anche prospettiva come dicevi di confronto e di collaborazione quindi approfitterei approfitterei sicuramente diciamo di questo contesto per andare avanti in questa direzione ehm ci lascerei le domande sempre per la seconda parte della 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 mattinata ehm passiamo subito al secondo gruppo di interventi quindi alla seconda sessione eh ci perdonerete ma un po' questa modalità ibrida non ci consente di fare pause o interrompere i lavori e poi riprenderli insomma per evitare ovviamente di interrompere la fluidità della discussione della chiacchierata quindi eh chiederei a ai colleghi di open coesione di di presentare un po' il loro il loro lavoro la loro attività che stanno che sta ripartendo mi sembra di aver capito in queste in queste ultime settimane in questi ultimi mesi eh di raccontarci un po' qual è il percorso che la prospettiva insomma di sviluppo di open coesione anche così calando un occhio rispetto al al lavoro che abbiamo fatto in queste in questi mesi con il 502 capire no se in quale misura è possibile convergere verso come dire una collaborazione di tutti gli attori no impegnati ripeto nel monitoraggio nella valutazione degli investimenti pubblici e dei progetti pubblici che comunque questo rimane un po' il focus su cui siamo concentrati grazie abbiamo Nicola De Chiara sì allora buon buongiorno a tutti grazie per l'invito Ugo grazie all'ospitalità colleghi di ANAC e appunto io sono Nicola De Chiara e faccio parte del progetto di coesione che si incardina all'interno del dipartimento delle politiche di coesione come giustamente diceva Ugo diciamo questa è l'altra presentazione diciamo noi troverò la nostra vabbè facciamo così condiviamo lo schermo in un loop e abbiamo questo via appunto abbiamo allora la nostra attività fondamentalmente riguarda le politiche di coesione come diceva giustamente Ugo abbiamo ripreso in realtà noi non ci siamo mai fermati dal 2012 l'occasione dell'invito è quella di poter ritornare ad avere diciamo un dibattito attivo anche da parte nostra nell'ambito di OGP a cui diciamo piano abbiamo partecipato in diverse edizioni forse questa era l'unica in cui c'è stato un momento di stop e se vogliamo parlare di stop questo era diciamo l'unico a cui possiamo fare riferimento con l'intenzione ovviamente di ripartire in termini di collaborazione e di alimentare per quanto possibile il dibattito pubblico sulla pubblicazione sulla fruizione dei dati delle pubbliche amministrazioni noi infatti appunto siamo una realtà che dal 2012 pubblica informazioni in formato aperto relativamente alle politiche di coesione in Italia quindi diciamo l'altro braccio dei grandi investimenti oltre a quello attuale del PNRR e dal 2012 ovviamente abbiamo fatto tanta esperienza quindi diciamo che le informazioni che l'esperienza che abbiamo portato in campo e che col confronto sia con le altre pubbliche amministrazioni che soprattutto con la società civile come si diceva anche prima ci ha consentito diciamo di fare dei passi in avanti rispetto alla semplice pubblicazione delle informazioni oggi infatti vogliamo raccontare proprio questo passaggio che ci ha consentito diciamo in qualche modo da pochi mesi perché a luglio c'è stata c'è stato l'aggiornamento del nostro portale che è andato live appunto a luglio 2023 con un aggiornamento significativo proprio in un'ottica diciamo di fruizione dei dei dati in maniera differente quindi non soltanto pubblicazione dei dati ma come si diceva anche prima consentire ai cittadini ma anche altri furitori di avere una visione più limpida più diretta immediata delle informazioni presenti all'interno del portale poi ovviamente c'è anche tutta una parte come c'è sempre stata di dati pubblicati in formato diciamo in formato aperto poi dopo lo vedremo diciamo su cui vorremmo lavorare e diciamo raccogliere e lanciare spunti in questo tavolo per cui noi appunto non è una modalità ma le salette sono un pdf facciamo un f5 se funziona vabbè siamo partiti ovviamente trattandoci essendo un portale di dati dai nostri dati noi pubblichiamo anche i nostri dati di accesso e diciamo essendo il nostro un gruppo abbastanza eterogeneo perché siamo un gruppo che non soltanto si occupa di dati ma nasciamo all'interno del nucleo di valutazione delle politiche e quindi c'è un gruppo che si occupa di polisi quindi di contenuti che è uno degli elementi secondo noi di valore e poi ovviamente c'è un gruppo di comunicazione per cui l'eterogeneità del gruppo e il fatto che il portale si occupa di polisi e di dati fa sì che appunto noi ci si autoanalizzi anche diciamo partendo proprio dai dati e una delle analisi ultime fatte è proprio sulla sulla tipologia di utenza e non tanto sui numeri quindi sull'incremento degli utenti al portale ma sulla tipologia di frizione del portale stesso quindi una maggiore attenzione al mobile diciamo un incremento della durata degli utenti sul portale quindi da questa analisi abbiamo diciamo preso il là dato la bio diciamo alla costituzione di nuove modalità di frizione dei dati perché appunto ci siamo resi conto che da un lato ovviamente il mobile e quindi è una frizione in crescita verso questa tipologia di device noi siamo ancora un portale che è principalmente diciamo a utenti da desktop però c'è una crescita di questa di questa utenza e quindi un portale più attento a queste a questi aspetti e poi appunto la frizione dei contenuti a partire da questo appunto abbiamo avviato all'inizio dell'anno un'attività di restyling in realtà probabilmente era fine dell'anno scorso un'attività di restyling forte il portale valorizzando appunto da un lato maggiori contenuti di carattere comunicazionale e quindi nuovi format che abbiamo proposto nel portale ma dall'altro lato sempre lasciando una forte attenzione ai dati perché poi quello è il nostro uno dei nostri ambiti diciamo di focalizzazione principale ricordiamoci che noi siamo il portale unico della trasparenza per tutte le politiche di coesione quindi individuati nell'ambito dell'accordo di partenariato sia 14-20 che 27 appunto così come previsto dai regolamenti comunitari e quindi continuiamo a pubblicare tutte le informazioni sia in formato appunto aperto in termini di CSV il nostro il nostro formato principale dove pubblichiamo una quantità di di variabili e di dataset consistente ma appunto come si diceva prima abbiamo fatto anche questa evoluzione già pubblicavamo delle informazioni in maniera diciamo visiva ma adesso abbiamo migliorato riteniamo poi aiutenti il giudizio diciamo le fruizioni di carattere visuale il portale resta ovviamente bilingue come peraltro da regolamento su che cosa abbiamo lavorato principalmente su appunto contenuti specifici per diversi target di utenti mentre prima diciamo il portale era molto orientato a un target tecnico e tecnico nel senso di addetto ai lavori fondamentalmente le amministrazioni regionali che sono i principali fruitori accedevano al portale oppure le amministrazioni centrali diciamo piano piano hanno iniziato ad utilizzare il portale sempre di più anche giornalisti cittadini quello era il target originario però il tema non è semplice e anche i giovani grazie anche a progetti collaterali che teniamo cito ovviamente quello di a scuola di coesione che immagino sarà ulteriormente citato e quindi abbiamo proposto anche nuovi format narrativi abbiamo realizzato nuove modalità di rappresentazione dei dati vado subito al dunque ritornando ovviamente sugli elementi dei nuovi ovviamente ci siamo focalizzati sull'impatto visual sulle modalità di rappresentazioni tra territori e temi poi i territori diciamo è uno degli obiettivi di questo panel diciamo di questa giornata e quindi ci siamo focalizzati molto di più sulla fruizione dei dati rispetto ai territori e anche rispetto alla rappresentazione quindi la user experience molto più moderna rispetto a diciamo lo schema schematico che lo schema che c'era tutto questo ovviamente con un'attenzione forte sempre anche alle regole che ci sono quindi diciamo linee guida sull'accessibilità per cui accessibilità migliorata rispetto alla fruizione precedente coerenza con i modelli per esempio di Agit sui siti e quindi c'è stato anche un cambio di rappresentazione cromatica quindi siamo passati da un verde al blu un po' più istituzionale diciamo un passaggio graduale per vedere nelle immagini diciamo per non perdere totalmente la diciamo l'identità che aveva e quindi diciamo vi faccio vedere direttamente le schermate siamo passati con una schermata diciamo a tutto schermo con il colore blu appunto più istituzionale abbiamo rimodulato i menu per la fruizione dei dati e come si diceva prima appunto aggiornato le pagine per la fruizione di alcune tipologie di contenuti anche con racconti quindi con testi non soltanto con numeri focalizzandoci principalmente sulla concessione di temi quindi sulle tematiche di interesse delle politiche di coesione in termini di investimento in questa schermata diciamo vedete un esempio di pagina sul tema reti e servizi digitali andando a guardare la pagina diciamo online oltre appunto a raccontare materialmente quindi con del testo che cosa si intende per questa per questa tematica prima questo passaggio non veniva non veniva effettuato nella pagina sono presenti dati di sintesi ovviamente provenienti dalla banca dati messa a disposizione dal MEF ricordiamoci che noi siamo appunto portale di pubblicazione dei dati ma abbiamo alle spalle una forte collaborazione con il MEF sempre la regione dello Stato in particolare l'ispettorato per i rapporti dell'Unione Europea e l'IGRUE che gestisce la banca dati delle politiche di coesione e la mette a noi a disposizione per poter poi fare tutto il lavoro di pubblicazione e di trasparenza e quindi oltre a rappresentazioni testuali dei dati poi abbiamo cercato di valorizzare anche le informazioni provenienti da indicatori statistici sulle diverse tematicità abbiamo fatto delle pagine specifiche per appunto territori e quindi regioni in primo luogo regioni intesi come appunto territori geografici e non come amministrazioni titolari di programmi di investimento ovviamente nelle pagine dei territori regionali all'interno si trovano tutti i programmi di quel territorio gestiti da quel territorio nonché tutti i progetti che afferiscono a quel territorio anche in questo caso il racconto è più diciamo fruibile nel senso appunto diamo prima delle informazioni di contesto del territorio vedete nella scherpata appunto capoluogo della regione il numero di abitanti superficie quindi dati di contesto regionali un minimo di racconto sempre sul territorio e poi dati provenienti dal portale quindi dai progetti e racconti storie che afferiscono il territorio nello specifico sul tema territoriale ci preme diciamo sottolineare questa novità che è sempre stata un un truccio diciamo perché poi le politiche di coesione in qualche modo si leggono anche rispetto al Mezzogiorno e al Centro Nord che sono due macro macro aree diciamo territoriali che nel portale precedente non era possibile diciamo in qualche modo leggere immediatamente se non appunto aggregando i dati scaricati sul portale non era immediatamente possibile guardare i macro aggregati e invece diciamo col nuovo portale abbiamo introdotto le due suddivisioni quindi è possibile leggere anche i dati per Mezzogiorno e per Centro Nord e poi appunto come si diceva prima nuovi format per esempio noi abbiamo sempre provato a dare diffusione anche dei contenuti abbiamo dei format che proponiamo periodicamente diciamo al nostro ai nostri follower chiamiamoli così rispetto a iscritti nella newsletter nel senso che pubblichiamo periodicamente un format che è quello delle data card quindi un'analisi di progetti delle politiche di posizione rispetto rispetto a una tematica specifica però abbiamo appunto provato ad arricchire i format comunicazionali e introducendo per esempio le storie di progetto quindi una volta al mese pubblichiamo con riferimento a uno dei progetti di rilievo all'interno della base dati degli approfondimenti tematici con video e storie appunto del progetto ulteriore novità che ci vorrei mai sottolineare in questo frangente è quella delle opportunità di finanziamento perché questa oltre ad essere una novità diciamo una novità diciamo rispetto al portale in termini di visualizzazione e fruizione è anche un po' una novità dal punto di vista della gestione dei dati perché mettiamo in campo una interoperabilità in qualche modo con le amministrazioni che sono tenute a pubblicare le singole opportunità di finanziamento dei programmi comunitari quantomeno sui propri siti e noi da portale unico diciamo le raccogliamo con una modalità condivisa per cui è stata fatta una circolare con la condivisione del tracciato e le modalità di pubblicazione di questi contenuti noi le raccogliamo e le ripubblichiamo all'interno del nostro portale in un'unica sezione di opportunità di finanziamento sia in termini di programmazione delle opportunità quindi quali sono le opportunità che verranno poi diventeranno bandi di lì a poco sia i bandi effettivamente a disposizione questa parte diciamo è in una prima fase quindi l'interoperabilità è primordiale in qualche modo l'idea è che nell'ambito del sistema di monitoraggio per la programmazione 2127 che in questo momento si sta realizzando all'interno del MEF della della ragioneria si possa integrare anche queste queste informazioni in maniera tale che tutto quanto sia all'interno dell'unico database che ci viene messo a disposizione e e veniamo quindi all'ultimo pezzettino e poi mi fermo che è quello diciamo proprio riferito ai dati abbiamo fatto tutto questo lavoro rispetto alla alla fruizione come si diceva prima è uno step successivo rispetto alla pubblicazione dei singoli dati però adesso vogliamo ritornare diciamo in questa seconda fase di lavoro sul portale sui nostri passi diciamo il core della nostra attività di pubblicazione che è quella di messa a disposizione dei dati in formato aperto provando a migliorare la fruibilità appunto di scarico dei dati questa è un'attività che stiamo avviando e per la quale stiamo provando a coinvolgere anche la società civile abbiamo preso spunto diciamo da un post di Andrea che prima ci ha raccontato appunto del PNRR per poter appunto coinvolgerlo da una sua iniziativa diciamo singola appunto abbiamo provato a chiedere a lui l'associazione a altre parti di voler dare un contributo rispetto a come poter migliorare sia i dataset di per sé sia la fruibilità sempre analizzandoci diciamo analizzando i nostri dati abbiamo ci siamo resi conto di appunto difficoltà nella nella nel download dei dei dataset perché la nostra base dati che ricordo mette a disposizione appunto nati nel 2012 progetti che provengono dalla programmazione comunitaria 713 e attualmente 1420 e stiamo iniziando a pubblicare alcuni primi progetti del 2127 che in questo momento le amministrazioni stanno caricando sulla banca dati del 1420 perché come dicevo prima la banca dati in realtà 2127 è in via di definizione quindi stanno per completare le attività di realizzazione e nel momento in cui appunto sarà pronta la banca dati le amministrazioni potranno inviare le informazioni a questa banca dati e di conseguenza inviarle a noi per la pubblicazione e quindi il nostro il nostro volume di progetti in questo momento siamo all'incirca 2 milioni e più di progetti e quindi molto molto volume in uso per cui i tempi di download non sono non sono semplicissimi se uno scarica il dataset completo e quindi già diciamo abbiamo provato a creare dei dataset che possano essere scaricati singolarmente delle amministrazioni messe anche per territori appunto per per ciclo di programmazione ovvero per ambito di programmazione quindi per fondo FESR FSC FSE e quant'altro però appunto l'idea è quella di migliorare ancora di più la fruizione in questi termini la ricerca dei dataset che poi molto spesso in questo momento noi abbiamo una lista molto lunga di dataset senza la possibilità di ricercarne i contenuti per cui anche evolvere la pagina in termini di strumenti per per la fruizione dei dati o di rappresentazione dei dataset in maniera live in maniera tale che qualcuno che si possano anche già iniziare a visualizzare quindi questo è lo step successivo su cui noi vorremmo lavorare stiamo iniziando a lavorare nei prossimi nei prossimi mesi avevamo già un concept ideale su cui ci stiamo basando per la fruizione dei dati quindi come vedete diciamo soprattutto migliorare la ricerca e il filtering per avere i dataset di vero interesse dell'utenza però questo è il lavoro che ci ci occuperà diciamo nei prossimi mesi e su cui speriamo diciamo anche grazie a questo incontro di definire diciamo ulteriori collaborazioni per migliorarlo gli spunti sicuramente che colgo rispetto agli interventi precedenti sono sicuramente quello di tenere in considerazione le linee guida recenti di Agit per la pubblicazione di data degli open data sicuramente il tema della pdnd dove appunto un ulteriore tema a cui noi farebbe piacere diciamo interloquire parlare e ovviamente società civile come già accennavo ma con un target sempre maggiore queste sono diciamo le nostre attività e il futuro prossimo di evoluzione del nostro portale grazie grazie a voi per rompere lasciando il microfono ecc parliamo ottimo grazie ci sono notevoli notevoli spunti insomma anche di convergenza insomma l'auspicio è quello che possiamo mettere dei mattoncini per poi ragionare insieme nella nella progettazione del nuovo piano e cercare di far convergere attività modalità di collaborazione e di lavoro comune verso appunto un sistema se vogliamo un po' più unitario di monitoraggio dei progetti pubblici bene andiamo veloci passiamo la parola a la regione toscana buongiorno è online se ci sente ci sono ci sono ci sono ci sono vi sento buongiorno a tutti intanto ovviamente Alessandra non sento più vi siete mutati prego non l'avevo sentito perché si è mutato il microfono che mi ha detto no dicevo ti volevo solo presentare grazie della vostra presenza e passiamo un po' a un momento di rappresentazione delle esperienze territoriali che si stanno svolgendo a livello regionale e regione toscana a voi la parola a te e grazie per la tua partecipazione grazie a voi intanto di questa opportunità insomma di raccontarvi quello che come regione toscana stiamo facendo intanto condivido lo schermo come regione toscana noi abbiamo su indicazione del presidente Eugenio Gianni già un anno fa iniziato a pubblicare diciamo così attraverso un sito dedicato al PNRR anche tutta una serie di dati aperti ed è per questo che anche insieme ai colleghi di funzione pubblica al gruppo di lavoro ci stiamo già da tempo insomma relazionando anche insieme ad altre regioni proprio per per raccontare ecco quello che stiamo facendo con nessuna pretesa nel senso di dire questo è quello che regione toscana sta mettendo in campo cercare ecco di diffondere anche la cultura dei dati aperti perché sono assolutamente una cosa fondamentale innanzitutto le finalità della nostra attività perché il presidente Gianni ci ha chiesto di mettere su questo sito innanzitutto per delle finalità principalmente informative verso i cittadini le imprese anche il mondo accademico mi collego a quello che si diceva in apertura rispetto all'assenza di policy analyst in questo momento in Italia da un certo punto di vista forse anche un po' per la mancanza come è stato più volte detto di una certezza della qualità del dato della necessità di una correlazione anche semantica delle diverse banche dati eccetera quindi quello che abbiamo cercato di fare attraverso il gruppo di lavoro di cui vi parlerò nelle slide successive è di provare a mettere insieme le conoscenze competenze diffuse che ci sono sul territorio sia a livello di istituzione regionale ma anche le istituzioni locali e il mondo della ricerca soprattutto il nostro istituto di ricerca IEPET per fornire una serie di informazioni qualitativemente verificate anche per una serie di analisi e valutazioni che potessero essere fatte soprattutto sul nostro territorio ovviamente come è stato detto più volte ringraziamo la ragioneria dello Stato che da qualche mese sta cominciando a pubblicare con una certa frequenza anche dati a livello nazionale perché ovviamente per il mondo della ricerca è fondamentale avere anche un quadro d'insieme anche per effettuare delle riflessioni anche di benchmark eccetera e ovviamente tutto il nostro lavoro poi dopo viene a supporto anche di quelle che sono le relazioni con le istituzioni nazionali come ad esempio la Corte dei Conti la Guardia di Finanza e le Prefetture con le quali abbiamo sempre dei canali aperti proprio per scambi di informazioni di conoscenze condivisione dei dati eccetera come vi dicevo il gruppo di lavoro coordinato dal direttore generale della regione toscana con la partecipazione del gabinetto del presidente io lavoro nel gabinetto del presidente si compone ovviamente di tutte le direzioni della regione toscana ma fa perno fondamentalmente su quattro settori il primo l'osservatorio regionale dei contratti pubblici visto che siamo in casa di ANAC che è anche sezione regionale di ANAC che in qualche modo è preposto al rilascio definitivo del nostro dataset soprattutto per l'opportunità che l'osservatorio regionale ha anche di interconnessione con tutte le banche dati ai quali ha accesso ovviamente la direzione dei sistemi informativi che permette anche fisicamente insomma questo aggancio l'interoperabilità e qui casomai colgo l'occasione di chiedere alla dottoressa Ricci visto che c'è insomma che stiamo cercando di portare avanti anche tutto un ragionamento di interoperabilità bionivoca anche con Regis da parte delle strutture regionali proprio anche per facilitare l'invio di dati e il download di dati dal sistema Regis il settore della programmazione locale perché ricordiamoci che ovviamente i dati sono sì necessari ai cittadini sicuramente in termini di accountability ma è ovvio che devono essere anche fondamentali per quanto riguarda il supporto alle policy conseguentemente abbiamo il settore della programmazione regionale che è preposto alla redazione e al coordinamento con il programma di sviluppo regionale di sviluppo che è il programma di governo e anche ovviamente per l'elaborazione dei documenti programmatici quali il DEF e la nota di aggiornamento al DEF l'altro settore chiave del gruppo di lavoro ovviamente riguarda il settore del bilancio nel caso specifico il settore di controllo strategico di gestione che ovviamente permette contemporaneamente l'interconnessione con tutte quelle che sono le informazioni contenute nel bilancio regionale soprattutto per quanto riguarda ovviamente gli interventi a gestione diretta da parte della regione ovvero qualora la regione si qualifichi come soggetto attuatore delegato o per conto dei ministeri nell'attuazione delle misure del PNR come vi ho detto perché diciamo così abbiamo iniziato un anno e mezzo fa a questo punto a elaborare questo nostro dataset che poi come vi ho detto alimenta un sito e viene tutto messo in open data innanzitutto perché ci eravamo resi conto al tempo parliamo di maggio 2022 e purtroppo in alcuni casi ancora queste criticità continuano a sussistere innanzitutto perché ogni fonte ai quali abbiamo accesso sia in open data che attraverso l'interoperabilità ovvero scarico di informazioni come per esempio nel caso del registro nazionale degli aiuti molto spesso forniscono dei quadri parziali e a volte non complete sia per motivi di ritardo di aggiornamento come per esempio la dottoressa Ricci ci ha spiegato il passaggio da universo a validazione in alcuni casi e questo si ricollega molto discorso che si faceva sulla semantica perché ciascuna banca dati a volte chiama la stessa cosa in modo simile ma non uguale e quindi abbiamo cercato di ricondurli secondo quella che era la nostra sensibilità è ovviamente tutta spiegata nella nota metodologica di accompagnamento a un sistema di classificazione omogeneo ovviamente prendendo spunto e mi ricollego a quanto ha detto prima il collega del DIPCOE ovviamente partendo da quelli che sono gli obbligos comunicativi informativi del regolamento 1060 regolamento delle regole generali anche perché ovviamente l'intenzione è di utilizzare questo nostro metodo anche in futuro per quanto riguarda i progetti che vengono finanziati dai fondi delle politiche di coesione europea ma soprattutto per in qualche modo valorizzare quello che è l'obbligo da una parte di alimentazione e l'assolvimento degli obblighi informativi e quindi in un certo qual modo rendere disponibili anche una serie di informazioni che molto spesso in Europa si trovano come obbligo e a volte insomma diciamo tra di noi ecco non sempre si riesce a capire ecco a che cosa serve quell'obbligo ecco quindi in questo modo noi soprattutto con la sensibilità anche dell'osservatorio di volere mettere proprio in chiaro quanto effettivamente è importante che questi obblighi siano assolti e siano assolti nei tempi previsti e quindi ecco il tutto per fornire un quadro unico aggiornato mensilmente tenete conto che il nostro data set noi lo aggiorniamo mensilmente ovviamente partendo da quella che è l'elaborazione del censimento dei progetti i colleghi insomma con cui abbiamo parlato del gruppo di lavoro ecco conoscono questo schema noi lo chiamiamo il pesce dove a sinistra vedete quali sono le fonti attraverso i quali in qualche modo redigiamo quello che è l'elenco dei progetti quindi per noi l'unità minima di indagine è il CUP quindi in questo caso vedete tutto l'elenco di quelle che sono le nostre fonti e attraverso questa chiave che può essere CUP o CORE perché giusto appunto facevo prima riferimento al registro nazionale degli aiuti quindi sapete benissimo per chi mastica insomma questa questa banca dati che il passaggio da inserimento nel registro nazionale di aiuti a CUP è un processo non immediato perché ovviamente c'è bisogno anche del passaggio del ministero competente che lo trasforma ai quali poi agganciamo una serie di ulteriori banche dati che ci permettono di tracciare per ciascun CUP anche lo stato di avanzamento in alcuni casi anche rispetto ai pagamenti che il beneficiario soprattutto nel caso di soggetto pubblico fa quindi anche eventualmente attraverso il sistema SIOP seppure seppure in parte però ecco in qualche modo ricostruiamo questa serie di informazioni che al momento tenete conto il nostro dataset conta una sessantina di campi che vengono valorizzati per ciascun CUP come vi dicevo aggiornato mensilmente perché ovviamente facciamo rigirare l'algoritmo che le aggancia le diverse banche dati e quindi contestualmente creiamo questo dataset finale rilasciato come si è detto anche per una verifica di qualità condiviso nel gruppo di lavoro rilasciato all'osservatorio regionale sui contratti pubblici scusate come vi dicevo questo dataset viene reso disponibile in open data e qui mi collego a quello che diceva il collega del dip co e noi proprio appena siamo usciti per la prima volta con l'open data abbiamo subito chiesto ai colleghi appunto di on data di monitor di guardarci di controllare appunto di farci una verifica della usabilità anche della correttezza del modo in cui noi stavamo usciando con gli open data quindi cose banali anche il separatore giusto da utilizzare la formula eccetera e abbiamo trovato in tutti i soggetti della società civile sempre un confronto molto molto aperto molto molto disponibile molto tempestivo e quindi insomma ci riteniamo ecco molto fortunati di aver avuto anche questa opportunità di collaborazione di collaborazione con loro il nostro dataset come vi ho detto alimenta un sito da una parte ovviamente una visualizzazione grafica una mappa navigabile e dove ciascuna di queste icone che vedete tutte colorate dove abbiamo ripreso insomma i colori ufficiali delle missioni apre per ciascuna di queste un diciamo così un piccolo pop up a livello di mappa in cui si danno le informazioni di base e poi rimanda a una pagina specifica nella quale abbiamo messo una serie di informazioni anche questo usando sempre come diciamo così base di riferimento il regolamento delle disposizioni comuni sui fondi europei che dà ecco un avanzamento una diciamo così una prima interpretazione di quella che è quella specifica un specifico progetto e con le informazioni chiave contestualmente qui mi ricollego anche a quello che diceva mi sembra in apertura collega di ANAC e abbiamo cercato anche di di valorizzare anche in modo semplice l'esposizione delle informazioni attraverso una serie di dashboard a che lo strumento fosse anche navigabile ai non passatemi il termine a dettagli lavori quindi queste dashboard che possono essere filtrate a livello di provincia piuttosto che una ricerca a livello di comune utilizzando tutti quelli che sono gli attributi per esempio del CUP per raccontare anche al cittadino piuttosto che all'operatore dell'informazione e della conoscenza che cosa era quei progetti che cosa si stava realizzando in un dato territorio oltre ad avere una visione di insieme su quello che sta succedendo sul territorio toscano casomai ecco con la specifica che per noi il toscano è tutto quello che insiste sul territorio indipendentemente come dire dalla parlassimo di imprese ecco dalla dalla sede legale dell'impresa cioè quello che insiste realmente sul territorio ovvero nel caso in cui un soggetto toscano facesse degli investimenti fuori dai confini amministrativi della regione però ovviamente c'è dopo una circolare taglia di quella che può essere la ricchezza generata dall'investimento del PNRR tale per cui per noi è importante tracciare anche questa tipologia di informazioni come vi ho detto stiamo cercando di condividere la nostra esperienza in primis attraverso il progetto pilota col Dipartimento Funzione Pubblica per il quale insomma siamo molto grati anche dell'invito di oggi e contestualmente stiamo lavorando anche a livello locale anche con altre regioni per raccontare come esportare da un certo punto di questo da un certo punto di vista ecco quello che stiamo facendo e come in qualche modo mettiamo a sistema questa serie di informazioni e soprattutto anche a beneficio molto spesso degli enti locali che in questo caso per esempio si trovano un pacchetto di informazioni già qualitativamente sostanziato dalla regione che in qualche modo può essere ridotto in downgrade sulla singola amministrazione sul singolo soggetto andando semplicemente a filtrare la banca dati che quindi alimenta contestualmente il sito la dashboard gli open data eccetera ecco nelle ultime slide vi riporto un altro uso delle informazioni che stiamo raccogliendo è vero che il nostro target principale è ovviamente il cittadino inteso in senso lato ma anche ovviamente un supporto a quelle che sono le riflessioni di policy ed è per questo che abbiamo sempre nel nostro gruppo di lavoro il nostro istituto regionale di ricerca IRPET con i quali pubblichiamo sempre delle sezioni nei loro rapporti annuali sia in quello sui contratti che viene pubblicato annualmente che sui rapporti di sviluppo anche economico della regione una serie di informazioni visto che siamo a casa di ANAC vi ho esportato un paio di slide dell'ultima presentazione che abbiamo fatto giusto un mese fa in cui per esempio proprio grazie anche al lavoro di affinamento che abbiamo fatto tracciando CUP e CIG dei progetti PNRR riusciamo a avere non solo una visione di insieme utilizzando anche le banche date di ANAC di quello che sta succedendo a livello nazionale e ovviamente con la ricaduta specifica nel caso della regione quindi vedendo per esempio questo incremento che c'è stato negli ultimi anni sulla ripresa di quelli che sono stati gli investimenti pubblici proprio grazie al volano creato dai fondi del PNRR ma anche in qualche modo riuscire a tracciare quelle che sono diciamo così tutte le operazioni attivate facendo un confronto su quanto viene realizzato in Toscana di quelle che sono le varie tipologie di contratti che vengono attivati il tutto perché ovviamente inserito nei modelli macroeconomici che IRPET elabora annualmente riusciamo ad avere anche una come dire una quantificazione anche di quelli che possono essere i possibili impatti in termini di occupazione di sviluppo di valore aggiunto sul territorio regionale anche e soprattutto ovviamente in termini nel caso specifico di occupazione quindi ecco questo giusto per raccontare anche non solo il dato in sé ma anche come effettivamente noi lo stiamo utilizzando proprio per portare avanti quella che è la discussione interna all'amministrazione regionale e al territorio regionale sui futuri impatti del PNRR e di tutto quello che viene attivato in maniera diciamo così collaterale e collegare spero di essere stata nei tempi vi lascio nella slide un po' di informazioni riferite ai nostri link facendo casomai ecco un piccolo inciso riguardo a una cosa che è stata detta prima sugli obblighi anche di informazione noi teniamo tenete conto che ovviamente a parte gli open data abbiamo creato sulla pagina di amministrazione trasparente una sezione espressamente dedicata agli avvisi di competenza regionale nel caso in cui come si diceva siamo soggetti a tutore delegato del PNRR e al tempo stesso sempre grazie all'osservatorio o a parti anche un'estrapolazione da tutti quelle che sono le gare aperte di qualunque genere di contratti in qualche modo collegati ai progetti del PNRR in Toscana per tutti i soggetti obbligati per legge regionale all'utilizzo del SIDAT che è il nostro sistema per la tracciatura insomma degli appalti vi ringrazio grazie grazie è stata velocissima perfetto ottimo perfettamente nei tempi grazie Alessandra grazie a te e grazie di aver ricordato che giustamente il progetto della regione Liguria e della regione Toscana fa parte dei progetti pilota quindi della misura 141 collegata al progetto open go io colpevolmente non avevo fatto questo riferimento e soprattutto questo aggancio che come dire è comunque parte integrante delle nostre attività grazie grazie a te passiamo alla fondazione IFEL Giorgia Marinuzzi dovrebbe esserci online eccola qui buongiorno buongiorno grazie a te della presenza grazie a voi che ci racconta un po' come dire le iniziative IFEL ANCI no? e quello che voi siete riusciti a recuperare a costruire in termini di dati di trasferimenti eh sempre con riferimento a come dire la componente eh PNRR però riferita specificamente ai comuni che è un tema che comunque è emerso insomma in queste settimane in questi mesi come essere appunto un po' critico no? nei termini di attuazione quindi grazie per la tua presenza e per la presentazione a te la parola grazie a voi per l'invito buongiorno a tutti sono Giorgia Marinuzzi responsabile dell'ufficio analisi e elaborazione dati economia territoriale di IFEL che è la fondazione dell'ANCI che si occupa di finanza ed economia locale la presentazione di oggi riguarderà principalmente il tema delle assegnazioni PNRR ai comuni italiani e l'idea è quella di mostrarvi alcuni esempi di uso e riuso di open data pubblici per la valutazione di politiche pubbliche una brevissima premessa che però insomma è stata accennata come sapete nei mesi scorsi moltissimi interventi di natura politica e tecnica hanno rappresentato una serie di difficoltà e ritardi nell'attuazione del PNRR con la conseguente necessità di verificare l'attuabilità delle misure e eventualmente riprogrammarle in questo dibattito i comuni italiani sono stati spesso indicati come un fattore di debolezza del piano questo per problematiche contingenti o strutturali che vanno dalla frammentazione dei centri decisionali piuttosto che la scarsità di personale qualificato oppure per il basso livello di spesa storica per investimenti che insomma è stato registrato sempre una piccola premessa per inquadrare la presentazione vi ricordo che la dotazione finanziaria del PNRR in Italia è pari a 191,5 miliardi di questi 191,5 miliardi 40 miliardi sono la dotazione per il comparto dei comuni quando parlo di comparto dei comuni mi riferisco ad amministrazioni comunali unioni di comuni città metropolitane comunità montane e siamo appunto in una fase in cui è molto caldo il tema proprio sulla revisione e l'aggiornamento del PNRR sappiamo che sono attenzionate in particolar modo nove misure all'interno del piano di cui sei hanno comuni beneficiari si tratta in questo caso di 13 miliardi di euro di fondi PNRR assegnati ai comuni di cosa vi parlo oggi oggi vi parlo come vi anticipavo dell'utilizzo che Eiffel fa degli open data pubblici in questo caso per fare cosa? per realizzare il primo rapporto Eiffel sulla dimensione territoriale del PNRR noi da mi pare 12 anni siamo alla dodicesima o tredicesima edizione del rapporto sulla dimensione territoriale della politica di coesione da quest'anno tra l'altro rapporto che noi riusciamo a realizzare proprio grazie ai dati di open coesione quest'anno appunto abbiamo messo in cantiere questo primo rapporto Eiffel che tocca principalmente tre argomenti di attenzione il primo la dimensione delle assegnazioni PNRR ovviamente con un focus sul comparto dei comuni il secondo argomento riguarda la composizione dei bandi di gara che hanno un finanziamento PNRR o PNC quindi il piano nazionale complementare con dei tagli per tipologia di committente e il terzo argomento di attenzione riguarda la riduzione del personale comunale in servizio la questione è semplice i comuni devono investire di più hanno più risorse per investire ma hanno a disposizione il personale in quantità coerente per effettuare tutto questo lavoro extra quindi considerare anche qual è il trend del personale in servizio qual è l'età media quante sono e come che dinamica hanno le spese per la formazione per parlarvi di questi tre argomenti di fatto usiamo una serie di 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 innanzitutto il DB Italia Domani proprio per l'universo dei progetti parliamo quindi del del file disponibile sul sito Italia Domani nel catalogo open data di cui faceva riferimento prima la dottoressa Ricci in questo caso la presentazione riguarda i dati resi disponibili a giugno duemilaventi ventitré questi dati li abbiamo integrati con una ricognizione IFEL delle assegnazioni PNRR destinate al comparto comunale che abbiamo queste assegnazioni le abbiamo tratte da la lettura dei decreti e delle graduatorie pubblicate dalle amministrazioni titolari abbiamo perché abbiamo fatto questa ricognizione perché di fatto Regis e poi che poi va a riversare appunto nei DB di Italia Domani ha qualche ritardo ovviamente nell'imputazione dei dati soprattutto in questa fase iniziale quindi in questo primo momento abbiamo ritenuto opportuno mappare appunto tutti i decreti e le graduatorie che man mano venivano pubblicate delle amministrazioni titolari e attraverso questa ricognizione abbiamo generato un portale quindi nazionale però relativo alle assegnazioni appunto al comparto dei comuni che abbiamo chiamato PNRR in comune e vi ho lasciato il link nelle slide che saranno messe a disposizione di cui poi vi farò vedere brevemente due schermate abbiamo analizzato i dati di open coesione in questo caso i progetti FESR 2014-2020 semplicemente per un confronto sulla taglia finanziaria degli interventi tra FESR che è il fondo strutturale per eccellenza dedicato allo sviluppo regionale e gli interventi del PNRR il DBANAC per i bandi di gara con finanziamenti appunto PNRR o PNC i dati SIOP per il trend degli investimenti fissi lordi dei comuni e poi per tutto ciò che riguarda l'analisi della consistenza del personale comunale in servizio ci rifacciamo al DB anche questo open del MEF dell'IGOP che si chiama conto annuale forse molti di voi già lo conoscono che riguarda appunto la consistenza del personale in servizio nella pubblica amministrazione nel nostro caso ci concentriamo sulle amministrazioni comunali allora qual è l'utilizzo che noi facciamo degli open data noi elaboriamo statistiche per valutare politiche pubbliche questo è l'utilizzo che cosa facciamo dopo uno studio attento di DB attraverso i metadati un file spesso diciamo snobbato invece utilissimo serve ovviamente un lavoro di pulizia del DB perché in questo modo si può evitare la moltiplicazione dell'errore sappiamo che se un dato è open un'errata interpretazione del dato o la presenza di eventuali errori nel momento in cui vengono utilizzati questi dati in modo diffuso l'errore si può moltiplicare sistematizziamo i DB quindi capiamo quali sono le relazioni tra ad esempio più file si faceva prima riferimento nel caso del PNRR proprio all'aggancio tra il CUP del progetto e il codice locale progetto che rendono univo col progetto solo se considerati insieme quella coppia di variabili ad esempio in quali altri file la vado a ritrovare quindi quali sono le relazioni esistenti tra i DB che riguardano uno stesso argomento e poi a volte è necessario completare il dato quindi questo per dire che per elaborare gli open data e valutare le politiche pubbliche non basta scaricare il dato e iniziare le analisi statistiche ma serve sicuramente una fase appunto di studio attenta del dato e poi una serie di lavori di appunto pulizia sistematizzazione e completamento che richiedono tempo e molto spesso un confronto con la fonte istituzionale del dato noi su questo abbiamo sempre troviamo sempre una totale disponibilità e apertura quali sono cosa diciamo a quali diciamo errori o a problematiche spesso quali problematiche spesso rileviamo ho riportato alcuni esempi nel nostro caso noi siamo interessati ai db che riguardano l'universo dei comuni italiani molto spesso ad esempio manca il codice identificativo del comune in questo caso il codice istat comunale che è un codice univoco che è associato ai singoli comuni quello ad esempio va spesso e volentieri agganciato al nome del comune stando attenti al fatto che in Italia ci sono dei comuni che hanno un'omonimia ad esempio e quindi è necessario poi avere un'informazione aggiuntiva relativa alla provincia di riferimento di quel comune la provincia della regione di riferimento di quel comune altri esempi di problematiche che riscontriamo nell'analisi degli open data a volte le tavole non quadrano tra loro ossia se il sistema non prevede il sistema quindi alla fonte dei dati non è previsto un sistema di alert per le mancate quadrature tra le tavole ovviamente ci si trova davanti a totali diversi anche in questo caso bisogna segnalare l'errore al produttore di dati e attendere la nuova fornitura spesso incontriamo hotlier per imputazioni dati errati lo chiamiamo il caso del 999 dell'esasperato ossia capita molto spesso ad esempio ci rifacciamo all'universo dei comuni che i comuni ricevono questionari su questionari su questionari da riempire nel momento in cui all'interno della raccolta dei dati in cui l'addetto comunale che va a compiere data entry non è previsto appunto un sistema di controllo di quadratura per esasperazione può capitare che inizi a digitare 999 purché il sistema vada avanti un altro caso che incontriamo spesso è la mancata categorizzazione dei soggetti ad esempio beneficiari di alcune risorse la categorizzazione può mancare oppure può servire una correzione faccio un esempio la regione Piemonte può essere categorizzata come un'impresa oppure la categorizzazione dei soggetti è presente nella fonte dei dati ma deve essere adattata a una propria classificazione quindi potrei avere un DB penso a quello di open coesione in cui vi è la categoria delle imprese tra i beneficiari però io potrei aver bisogno delle sole partecipate quindi in quel caso devo fare un lavoro aggiuntivo per comprendere di queste imprese beneficiarie quali sono quelle partecipate un altro esempio i casi dei multibeneficiari anche di questo se ne è accennato prima quando parliamo di finanziamenti in questo caso anche quello del PNRR un importo totale può riguardare più soggetti ovviamente le strade che poi vengono prese dal produttore dei dati anche queste possono essere diverse perché ad esempio il dato si potrebbe ripetere con lo stesso importo quindi io so che l'importo di ipotizziamo 500.000 euro riguarda più soggetti insieme io non so questi 500.000 euro come vengono ripartiti tra i vari soggetti e nel DB il dato si potrebbe ripetere con lo stesso importo per ciascun soggetto in questo caso si rischia ovviamente di moltiplicare il dato perché se vado a fare una somma brutale vado a sommare quei 500.000 euro per tutti i soggetti che riportano quell'importo oppure quello che può capitare è che il dato è presente una sola volta senza quindi una distribuzione per soggetti quindi io so che il soggetto ad esempio capofila è destinatario di 500.000 euro ma non è destinatario per l'intero importo ma anche per gli altri soggetti che fanno parte ad esempio del gruppo di soggetti beneficiari che sono destinatari di quel finanziamento e quindi bisogna poi comprendere come spalmare quei 500.000 euro per tutti i soggetti destinatari andiamo a vedere secondo gli ultimi dati pubblicati gli ultimi fino a ieri i dati pubblicati in Italia Domani al 13 giugno 2023 riguardavano 197.000 progetti PNRR in tutta Italia quindi a prescindere dai soggetti beneficiari per un valore di 105,7 miliardi di euro noi siamo ci siamo concentrati ovviamente sul comparto dei comuni che come vi dicevo è rappresentato dai comuni stessi insieme a Unioni Comuni Comunità Montane e Città Metropolitane e cosa siamo andati a verificare che i comuni appunto hanno una dotazione finanziaria PNRR pari a 40 miliardi di euro e hanno ricevuto assegnazioni per 36,3 miliardi quindi stiamo dicendo che il rapporto tra queste due grandezze tra assegnazioni e dotazioni finanziarie è pari al 91% per tutti gli altri soggetti quindi a completare queste assegnazioni di 105,7 miliardi come vi dicevo mi riferisco a giugno gli altri soggetti quindi hanno assegnazioni per 69,4 miliardi che pesano per il 46% per la dotazione finanziaria del PNRR come vi dicevo volevo provare ok questo è il sito PNRR in comune che abbiamo realizzato appunto con le assegnazioni al 31 maggio 2023 del PNRR attraverso quindi la ricognizione come vi dicevo delle graduatorie dei decreti di assegnazione da parte delle amministrazioni titolari avete due pulsanti rossi con i quali si può cambiare il tipo di analisi nella pulsante di sinistra noi andiamo a vedere per singolente beneficiario quali sono le risorse assegnate quindi io posso scrivere comune di Napoli do l'ok sappiamo che il comune di Napoli ha un importo PNRR assegnato di 685 milioni di euro e vado a vedere la composizione di quelle assegnazioni per missione qui in valori percentuali a destra in valore assoluto e poi per missioni e componenti quindi abbiamo un dettaglio in questa tabella dei parziali per singole missioni e componenti sempre con il comune selezionato in questo caso seleziono il comune di Napoli e poi l'elenco di tutti gli investimenti e le riforme nelle quali si articolano appunto queste assegnazioni oltre a questa opzione possiamo analizzare il dato quindi vi ricordo che è sempre a livello nazionale però per il comparto comunale quindi posso andare a leggere queste assegnazioni per territorio per missione per componente quindi una cosa inizialmente interessante che ho inserito anche nelle slide ma ve le posso far vedere direttamente da questo portale dei 36,3 miliardi di euro assegnati al comparto dei comuni possiamo leggere in questa torta di sinistra qual è la distribuzione percentuale delle assegnazioni per missione quindi vediamo che prevale la missione 2 su rivoluzione verde e transizione ecologica per il 40% delle assegnazioni segue la missione 5 al 30% circa 31% delle assegnazioni la missione 4 istruzione e ricerca al 20% e la missione 1 all'8,5% delle assegnazioni posso selezionare ad esempio un territorio potrei essere interessata a selezionare il mezzogiorno come vedete dei 36,3 miliardi di euro destinati al comparto dei comuni attualmente si registrano 16,3 miliardi di euro destinati al mezzogiorno pari al 44,9% delle assegnazioni PNRR ai comuni questo che cosa vuol dire diciamo nel comparto dei comuni è come dire che vi è un rispetto della cosiddetta clausola del mezzogiorno che prevedeva una destinazione territoriale specifica alle regioni del mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse del piano che fossero territorializzabili il quadro per missione ve l'ho illustrato prima tramite il portale vi dicevo prima che abbiamo utilizzato anche i dati di open coesione all'interno di questa presentazione perché perché volevamo effettuare un confronto sulla taglia finanziaria degli interventi PNRR con quelli della politica di coesione in particolare appunto del FESR il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale questo perché ci aveva molto colpito che il 94% di tutti i progetti PNRR assegnati ha un finanziamento fino al milione di euro e questa percentuale quindi del 94% si ritrova identica anche all'interno del comparto dei comuni di fatto il tema della microprogettualità non ci stupisce quando si parla di politiche finanziate con risorse straordinarie perché come potete notare se andiamo a fare un confronto tra gli interventi FESR e PNRR che hanno un finanziamento inferiore a 150.000 euro notiamo una maggiore concentrazione di questi interventi più piccoli proprio nel FESR piuttosto del PNRR quindi nel FESR in questo caso 2014-2020 l'86% degli interventi ha un finanziamento inferiore a 150.000 euro nel caso del PNRR questa percentuale scende al 73% veniamo ai bandi di gara PNRR PNC quindi parliamo del DB ANAC da luglio 2022 fino a metà giugno 2023 secondo i dati ANAC le gare bandite con risorse PNRR o PNC parliamo di un flag quindi nel momento in cui per la gara è stato flaggato la voce PNRR o PNC non si riescono a distinguere due componenti si contano appunto 102.000 gare bandite in questo caso analizzando i soggetti committenti di queste gare emerge come i comuni siano i principali committenti con il 51% delle gare ossia quasi 52.000 vediamo come la numerosità dei bandi PNRR PNC sia molto elevata anche per società aziende e consorsi il 16% il totale e scuole enti di ricerca e università al 14% l'evoluzione di queste gare bandite dai comuni con quindi il flag PNRR PNC è un'evoluzione abbastanza spedita nel grafico potete vedere l'accumulata delle gare da gennaio a giugno 2023 mese per mese appunto siamo quasi a quota 52.000 gare scusa Giorgia ti chiederei di accelerare che siamo un po' stretti con i tempi se riesci ad andare verso la conclusione scusaci ma vediamo quindi come in questo caso l'utilizzo dei dati SIOP per invece comprendere l'andamento degli investimenti fissi lordi dei comuni dal 2017 al 2022 la ripresa degli investimenti comunali non dipende dal PNRR almeno in questa fase ma dipende dall'abbandono dei vincoli finanziari o l'aumento del volume dei trasferimenti statali o dalla semplificazione delle procedure di gara il dipartimento finanza locale di IFEL ha stimato per il 2023 un aumento degli investimenti comunali che si andrebbe ad attestare a 14 miliardi di euro e quindi nel momento in cui sappiamo che i comuni dovranno gestire una quantità di risorse ancora superiore rispetto agli anni precedenti ovviamente sorge la questione dell'esigenza di possedere la capacità amministrativa non solo di spendere ma di saper spendere bene queste risorse addizionali per la realizzazione appunto di opere pubbliche per trasformare gli investimenti in infrastrutture funzionanti sul territorio in servizi erogati per la collettività detto questo vi lascio soltanto due slide giusto per una riflessione finale anche questo sempre sull'uso dei dati pubblici in questo caso quelli del MEF abbiamo visto questa crescita degli investimenti comunali che diventerà ancora più ripida nell'anno prossimo in tutto questo però abbiamo un personale comunale in servizio in progressiva e continua contrazione un 28,4% in meno dal 2007 al 2021 tutte queste elaborazioni si possono ottenere analizzando appunto i dati del conto annuale del MEF vediamo che il personale comunale impiegato nella pianificazione è quello che ha sofferto di più la riduzione del personale il 18,2% tra il 2015 e il 2021 contro una media del 16,3% e assistiamo anche ad un innalzamento dell'età dell'anzianità media tutto questo per l'effetto dei blocchi occupazionali che hanno subito le amministrazioni comunali e una riduzione drastica delle spese di formazione per il personale comunale in euro pro capite imposte dai vincoli alle spese per la formazione appunto da parte del legislatore a questo punto vi lascio le slide in modo tale che se volete poi continuare ad approfondire ci sono molti più input però se il tempo è scaduto grazie grazie Giorgia ci stiamo rendendo conto che stiamo andando un po' lunghi con i tempi quindi però insomma un'ulteriore fonte di dati che è sicuramente utile come dire ai nostri scopi e a tutti quelli che stanno lavorando su questo fronte lascio la parola a Luigi che ci racconta un po' il loro punto di vista sul fronte del monitoraggio civico e insomma un po' quello che riesci a recuperare grazie vediamo se riesco a recuperare qualche minuto no ma come risultato del lavoro del tavolo pensavo il tempo ok no no speriamo di avere qualche minuto poi insomma lasciamo la parola a Morena allora innanzitutto grazie dell'invito grazie insomma della partecipazione a questo tavolo di lavoro ormai più di un anno e mezzo circa di lavoro mi associo diciamo a tutto quello che ha detto Andrea Burruso all'inizio sull'utilità e anche sui rapporti personali che abbiamo instaurato insomma quindi invito anche diciamo by the way altre amministrazioni che volessero farne parte di presidiare ecco mi è stato chiesto di parlare appunto di monitoraggio civico sui progetti pubblici e io pensavo di raccontarvi proprio brevemente alcune novità alcune esperienze diciamo tratte un po' dalla pratica che che abbiamo le pratiche che abbiamo realizzato negli ultimi due anni io faccio parte di un'associazione un ente del settore che si chiama Moniton che significa maratona di monitoraggio civico che offre strumenti e metodi per le comunità i cittadini che vogliono sperimentare questa pratica di andare a presidiare l'utilizzo dei fondi pubblici dall'esterno utilizzando quindi tutti i dati che abbiamo visto questa mattina sperimenta instaurando delle relazioni di collaborazione con le amministrazioni pubbliche quindi favorire diciamo la partecipazione pubblica alle politiche e quindi anche insomma buon funzionamento della nostra democrazia vi parlo di monitoraggio in questo caso che è ancora se vogliamo ancora più complicato da un certo punto di vista rispetto al monitoraggio civico fatto sui dati aggregati quindi utilizzando riutilizzando i dati pubblici che abbiamo visto che abbiamo visto oggi con tutte a tutte le difficoltà diciamo che faceva vedere la collega prima di IFEL sull'utilizzo dei dati si aggiunge la difficoltà di andare ad analizzare un singolo progetto quindi andare non solo a prendere dati da utilizzare le fonti dati esistenti ma anche di raccogliere dati nuovi su questo c'è una sfida aperta diciamo soprattutto sul fronte del PNRR da parte della società civile venerdì c'è stato il festival della partecipazione a Bologna in cui ci sono riunite quasi tutte le associazioni e gli enti del tazzo settore che stanno lavorando al monitoraggio civico del PNRR c'è un grande cappello che è quello dell'osservatorio civico del PNRR che è un'iniziativa che è stata promossa da Action Aid da Cittadinanza Attiva e da Fondazione Etica ci sono sono state negli ultimi anni fatte delle scuole di monitoraggio civico per delle comunità in varie città italiane c'è prima si parlava di genere c'è un'associazione si chiama Period che ha appunto sta promuovendo anche lì in varie città italiane delle scuole per analizzare i progetti del PNRR da un'ottica di genere noi come Moniton abbiamo dato diciamo stiamo dando i nostri strumenti i nostri metodi a queste iniziative cercando di diciamo promuovere l'uso di pochi diciamo strumenti e metodi per monitorare i progetti in modo da migliorare la comparabilità poi dei dati raccolti ci sono altri esempi tra cui appunto l'università di Torino e di Bergamo che in questi due anni hanno utilizzato i nostri metodi nel alcuni corsi che hanno fatto nelle rispettive università dati bene comune ha diciamo sponsorizzato alcuni progetti monitoraggio civico tra cui uno su un progetto specifico che è stato realizzato a Udine insomma io non riesco chiaramente in questa occasione a fare la somma diciamo di tutto quello che è in campo diciamo che il metodo che finora è stato utilizzato che è quello che è stato applicato nello stesso modo negli anni passati al progetto a scuola dopo in coesione andando a ingaggiare studenti delle scuole superiori in tutta Italia è stato applicato anche il PNRR quindi si tratta di partire da una volta scelti alcuni progetti interessanti partire dall'analisi dei dati ma anche andare a fare dei sopravoghi sul campo andare a intervistare i soggetti responsabili e alla fine organizzare degli incontri pubblici in cui ci sia appunto un dialogo sulla base dei risultati ottenuti i dati che abbiamo utilizzato per il PNRR sono stati all'inizio due anni fa i dati dopo in CUP e chiaramente i decreti di assegnazione delle risorse le graduatorie con l'uscita dei dati Regis siamo passati certamente a quello c'è stata chiaramente una grossa difficoltà per l'intente diciamo civico come potrebbe essere uno studente di economia della laurea specialistica quindi non proprio diciamo l'ultimo arrivato a utilizzare questi dati quindi a entrare nel merito di questi tanti dataset che difficilmente si riescono a mettere insieme non è banale diciamo noi proviamo a dare una mano ma non è banale quindi sicuramente si verrebbe un aiuto da parte delle amministrazioni questi risultati sono all'interno di report di monitoraggio civico sono su nostro sito moniton.eu quindi se trovate una mappa li potete andare a leggere i progetti del PNR che abbiamo visto sono appena stati appena avviati quindi ancora diciamo non ci sono grosse evidenze quello che abbiamo fatto è andare a monitorare la efficacia potenziale di questi progetti andare a capire quali sono per esempio le condizioni per cui gli obiettivi di questi progetti si potrebbero realizzare quello che abbiamo in una parola abbiamo riscontrato come fil rouge dei progetti analizzati a Torino a Bergamo e a Udine è una sostanziale diciamo non dico mancanza ma una diciamo scarsa attenzione ai meccanismi partecipativi una volta che i progetti vengono approvati capiamo diciamo la fretta di dover mettere in attuazione i progetti velocemente per le scadenze del PNRR però anche dopo l'inizio del progetto ci sono comunque secondo noi delle maggiori ci sono comunque spazi per ascoltare la cittadinanza il rischio è appunto di fare per esempio uno studentato dove gli studenti che noi abbiamo intervistato attraverso appunto l'università con cui abbiamo collaborato ai quali loro non sarebbero disposti a usufruirne oppure un parco in cui diciamo la ristrutturazione la riqualificazione di un parco pubblico in cui diciamo l'obiettivo è quello di aumentare l'ingresso delle persone il numero di visitatori ma i visitatori potenzialmente interessati non vorrebbero parcheggiare per esempio sulle strisce blu sulle strisce a pagamento quindi anche questi sono tutti come dire già evidenze che si possono trovare andando a leggere i progetti sulla carta intervistando le amministrazioni che però diciamo se non si tengono conto anche di questi aspetti legati appunto che si imparano ascoltando la cittadinanza il rischio appunto è che i progetti sono meno efficaci di quanto potrebbero essere quindi diciamo se ho due minuti per concludere ci sembra che diciamo queste prime sperimentazioni di monitoraggio civico abbiano funzionato bene abbiano sicuramente un valore educativo prima si parlava di educare la cittadinanza nel senso di darle empowerment di dare la possibilità di dare gli strumenti per leggere per analizzare i dati e anche per analizzare le politiche che ci sono alla base senza le quali senza alcuni rudimenti su questo è davvero difficile interpretare poi questi dati ha valore chiaramente da accountability nel senso che ogni volta vengono organizzati anche degli incontri pubblici in cui vengono date chieste domande direttamente agli amministratori cercando appunto di stimolare un dibattito un dibattito informato tra le difficoltà abbiamo avuto sicuramente quello di interpretare i dati questo lo dicevo prima quindi difficoltà diciamo tecniche nell'utilizzo dei dati ma anche a trovare informazioni quindi per esempio i documenti le determine i progetti esecutivi tutto quello che riguarda il progetto che ancora non è visibile quindi questa fase iniziale è stato un grosso problema risolto con un grande sforzo di collaborazione con i funzionari di comuni ad esempio dei progetti interessati ma è stata una gran fatica c'è un problema chiaramente anche di ingaggio cioè fare queste attività sui singoli progetti specialmente è una grande un grande lavoro richiede un grande impegno le pubbliche amministrazioni potrebbero dare una mano nel senso che spesso questi questi sforzi sono sostenibili da parte della società civile per sperimentazioni per iniziare a diciamo far comprendere diciamo dare il via dare il là a questo tipo di iniziative la difficoltà e rendere sostenibili quindi in questo caso progetti iniziative come per esempio Open Cohesione che abbiamo visto prima che diciamo riesce proattivamente anche a stimolare iniziative di monitoraggio civico diciamo questo potrebbe essere appunto preso un esempio come esempio un'ultima diciamo suggerimento che ci sentiremo di dare è quello di un po' come ha fatto la regione toscana farlo su scala nazionale andando a integrare quelli che sono le banche dati esistenti in un portale che sia comunque non dico diciamo comprensibile a tutti ma comunque abbia maggiore diciamo capacità di arrivare di essere fruibile ad una ad una fetta di popolazione maggiore dando appunto non solo diciamo rilievo a quello che sono i documenti quelli che sono i dati d'avanzamento ma anche quelle che sono le evidenze che man mano quei progetti rilasciano quindi le storie e i video e tutto quello che può essere diciamo necessario per le comunità per andare a esprimere il loro giudizio io direi di fermarmi qua grazie 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 Luigi ottimo grazie per il vostro punto di vista chiudiamo con con Morena Dragone Regione Puglia che ci racconta un po' la sua esperienza scusaci per poi il ritardo per essere andati assolutamente ci mancherebbe hai hai l'onere l'onore di chiudere la mattina ecco diciamo spero che sia un onore nel senso di considerarlo tale che lo sia anche per voi eh cercherò veramente di essere rapidissima te l'ho promesso condivido le slide solo così mi date conferma parte integrante del gruppo di lavoro cinque zero due veramente hai l'onore di chiudere la serata anche con una vista diciamo questa è la parte del dell'impatto sui territori quindi chi meglio di te può da un punto di vista del territorio chiudere grazie grazie Gianpaolo speriamo allora di essere all'altezza allora visto la presentazione ovviamente sì io gioco doppiamente in causa perché sono parte integrante del del gruppo di lavoro sull'azione cinque zero due parte del forum multi stakeholder sempre di OGP nello stesso tempo rappresentante per l'ufficio del responsabile transizione digitale eh di una parte secondo me molto importante del PNRR che riguarda prevalentemente la missione uno componente quindi M1C1 tutta la parte della digitalizzazione della PA allora io cerco oggi di portare una prospettiva che spero sia complementare rispetto a tutte le viste che abbiamo avuto oggi quindi sia la parte di contesto sia la parte di esperienze pregresse perché ehm un po' per la situazione generale di regione che ora vi vi farò vedere tramite qualche numero qualche dato su quella che è eh la riunione puoi alzare un po' la voce che ti sentiamo poco il volume non so se è un discorso di microfono vicinanza ci provo mi sentite meglio ok ok perfetto allora mi mi riaggancio a quello che stavo dicendo ho detto che speravo spero di portare una vista complementare a quelle fornite fino ad ora sia per quanto riguarda il contesto specifico e sia per quanto riguarda eh qualche numero eh che diciamo caratterizza la situazione attuale di regione che sta lavorando ad una riorganizzazione della propria strutturazione ai siti del proprio digitale della propria ovviamente anche modalità di interazione con l'esterno tramite il digitale allora eh qui ho messo volutamente in relazione queste tre parole chiave come vedete open data eh l'Inca diciamo si collega con il responsabile della transizione al digitale ma anche con il PNRR perché noi intendiamo ovviamente l'apertura dei dati del PNRR come un progetto più ampio dell'apertura generale dei dati di regione nello stesso tempo sotto il coordinamento dell'RTD non soltanto per mandato normativo lo possiamo dire perché nelle linee guidaggi è specificato che tale coordinamento tocca il responsabile transizione digitale ma anche perché questa è stata una scelta specifica di eh di regione Puglia che cosa abbiamo fatto a partire dal duemila e ventuno abbiamo posto degli obiettivi strategici di medio lungo periodo e all'interno di questi obiettivi strategici uno di questi riguardava proprio la spinta verso l'apertura dei dati tramite un processo di riorganizzazione interno che si è pian piano attuato in questi altri atti organizzativi quindi altre deliberazioni di giunta regionale che vedete sulla destra trovate il riferimento all'oggetto generale di quest'atto quindi la scelta della licenza di apertura dei dati il piano di riorganizzazione digitale che è il primo piano triennale di regione Puglia in cui mette mano completo a quelli che sono tutti i sistemi regionali quindi tutta la parte ICT non soltanto dal punto di vista infrastrutturale ma cosa che a noi interessa molto dal punto di vista della governance tanto ora ci arriviamo e poi abbiamo a seguire la TGR che ha approvato l'accordo con i soggetti esterni al contesto di regione che vogliono pubblicare sulla piattaforma dati Puglia e ancora l'aggiornamento del piano di riorganizzazione digitale allora come dicevo la strategia di regione ha abbracciato un contesto abbastanza ampio anche perché nello stesso PRD quindi ora i numeri cominciano pian piano a diventare familiari anche a me che ormai per forza di cose li ho imparati a memoria quindi con questa TGR sette nove uno di maggio venticue sono stati previsti alcuni interventi che ruotano proprio alla ristrutturazione del modello di trattamento del dato perdonatevi volutamente l'uso a tecnico della parola trattamento come il dato lo facciamo come il dato lo raccogliamo come costruiamo quello che è il data sette o quelli che sono i database e soprattutto poi che ne facciamo all'interno del lente ma come riusciamo anche a portarlo anche fuori del lente perché le due viste sono altrettanto fondamentali che sono assolutamente complementari e devono interagire allora all'interno del PRD sono stati previsti questi interventi un intervento macro sul quale stiamo già lavorando da un bel po' credo che sia circa 14 mesi il progetto del DSS quindi del decision support system il progetto importantissimo che sposa un po' anche i discorsi fatti stamattina quindi i primi interventi sulla PND del nodo di interoperabilità un progetto specifico sulla mobilità tramite la costruzione del 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 RAP quindi del regional access point regionale per i dati di mobilità che si interfaccia con un altro progetto che vi faccio vedere subito dopo uno R specifico sulla governance che al suo interno ha non tanto la strutturazione il monitoraggio l'aggiornamento del piano ma una serie di aspetti che vanno dalla qualità del software ai centri di competenza ai nodi territoriali di competenza regione Puglia da poco è stata scelta come nodo territoriale di competenza sull'uso e abbiamo costituito nell'ambito della governance dei dati un gruppo di lavoro specifico lo vedete sotto con dei termini dell'RTT che si chiama ODOS è un acronimo che sta per open data e open source ed è un gruppo di lavoro specifico che si occupa di ripetere una serie di aspetti gli aspetti normativi quindi linee guida regionali sull'apertura dei dati e revisione della legge 20 del 2012 che è stata una delle prime leggi regionali che in Italia ha previsto la pubblicazione anche dei dati aperti se vi capita di guardare quell'articolo 6 contenuto in questa legge noterete che ha già una visione assolutamente prospettica pur essendo una legge di oltre dieci anni fa ma si è costituito proprio un modello di governance che stiamo consolidando in questi giorni vi dico anche che dal 2 di ottobre il modello delle linee guida regionali sull'apertura dei dati va in consultazione pubblica su cui li ha partecipato poi ovviamente sarete informati di questo sia all'interno dei nostri canali delle nostre comunità ma anche tramite pubblicazione ufficiale sul sito eccetera quindi stiamo cercando di creare una modalità di condivisione interna tra una serie di strutture quindi c'è il gruppo di lavoro del ODOS c'è il gruppo di lavoro dell'RTP che è un modello organizzativo interno per cui ogni dipartimento regionale ha dei referenti con l'RTP quindi facilità di riportare esigenze facilità di comunicare facilità anche di presidiare le difficoltà le necessità quindi collegamento con le strutture regionali e poi una serie di figure di raccordo che tra l'altro sono anche previste queste dalle linee guida nazionali il responsabile della protezione dati oppure ancora noi abbiamo nello specifico modello la sezione di trasformazione digitale che invece ha la vista esterna rispetto a regione sui dati aperti quindi l'attuazione cioè la struttura che fa l'attuazione delle politiche anche dei dati aperti verso il territorio quindi verso gli enti locali ma dicevamo nello specifico PNRR quanto e come aggancia il piano di riorganizzazione di regione e lo vedete qui tramite due principali progetti sui quali stiamo lavorando la 131 che è appunto l'adesione alla PDND tramite la pubblicazione di una serie di API se non ricordo male 30 API nella nostra distanza di candidatura e poi la 146 che si basa appunto sul MAS quindi sulla MAS mobility e ad oggi siamo stati ammessi alla prima fase quindi regione Puglia risulta tra le sette regioni e province autonome che se tutto andrà bene fino alla conclusione del progetto vedranno quindi potranno utilizzare per il MAS i contenuti del PNRR vi dico anche qualcosa che non si vede ancora fuori ma cui stiamo lavorando allora da quando l'ufficio RTD è stato costituito formalmente perché in precedenza c'era l'RTD ma l'ufficio era virtuale quindi ora esiste un ufficio fisico l'ufficio fisico opera dalla metà del 2021 e ha avviato e prosegue nelle maffature periodiche dell'organizzazione interna sembrerà una cosa diciamo quasi scontata ma in realtà potete immaginare quanto possa essere complessa in un'amministrazione come quella regionale con tante competenze tanti ambiti tanti dipartimenti e tante sottostrutture mappare per esempio le pancchettate interne quindi vi do diciamo giusto questo elemento per capire la complessità di rilevazione di questo tipo stiamo ultimando la strutturazione di un cruscotto di monitoraggio interno che sarà non soltanto ad opera dell'ufficio sarà soltanto a vantaggio d'ausilio dell'ufficio RTD ma potrà controllare verificare una serie di informazioni che a noi serviranno per mettere in relazione l'interno di regione quindi i dati del nostro PRD i dati del monitoraggio del PNRR anche con l'esterno stiamo strutturando anche una come posso dire una parte proprio rivolta alla cittadinanza rivolta all'esterno che possa aiutare nella visualizzazione del dato nella comprensione del dato dalle cose che sono emerse oggi questo è stato anche uno degli elementi delicati cioè come portare ne ha parlato anche Gigi Pocanzi come portare come far comprendere quel lavoro che noi facciamo che molte volte per gli addetti ai lavori questo è la cittadinanza di Andrea Borruso anche Foric qual è la modalità migliore per riuscire a mantenere alto il livello di pulizia di qualità del dato ma nello stesso tempo renderlo comprensibile e poi ovviamente l'RTT si coordina con quella che è la cabina di regia PNRR per quanto riguarda i dati quindi le modalità di visualizzazione di comunicazione all'esterno di questi dati dal punto di vista progettuale vero e proprio quindi qualcosa ve l'ho già detta sulla pubblicazione sul nostro portale per i soggetti esterni eccetera ma noi abbiamo in essere una serie di attività che riguardano tutti i dati aperti e riguardano anche i dati aperti del PNRR allora il prima la prima attività è il progetto Open Task che vedete qui e che è un progetto che ha è partito maggio scorso e si chiuderà il 12 ottobre con un hackathon ve l'ho messo qui un hackathon su un paniere che è stato costruito quindi un paniere territoriale che è stato costruito durante una serie di data lab territoriali questo paniere è stato messo a consultazione pubblica e poi come percorso finale di questa fase progettuale avremo l'hackathon però in realtà il modello di regione ha puntato molto in questi anni e punta tuttora su quello che voi state vedendo oggi che è un'applicazione pratica cioè penso che mi permetteranno i colleghi di Formet e di Agi di rilevare che la costruzione delle reti sta creando non soltanto delle relazioni virtuose qualche collega che ne ha parlato anche prima ne ha accennato anche prima ma sta in realtà portando un contributo pratico concreto quello che in altri contesti si direbbe ricaduta di valore pubblico cioè si sta producendo un risultato che non vediamo soltanto qui ma vediamo sui territori che è quella cosa che ci interessa a tutti perché oltre ai dipendenti pubblici funzionari consulenti eccetera siamo anche cittadini quindi tutto quello che qui dall'interno riusciamo a portare fuori a beneficio di tutto il contesto di tutto il mondo si ripercuote quindi un circolo virtuoso si ripercuote e poi alla fine anche su di noi semplifica il nostro lavoro mettere insieme le banche di dati perché non dimentichiamoci sempre che avere banche dati che non si parlano obbligano i stessi a recuperare quei dati ed andarli eventualmente a sistemare pulire cercare di capire come farli parlare oltre che a inserire quel dato più volte in diverse banche dati quindi il modello di rete fondamentale io quello che vi dico anche che sempre in questa direzione sempre nell'idea dell'apertura del dato apertura del dato PNRR a dicembre di quest'anno faremo perché noi lo facciamo a dicembre da due anni già il nostro Open Data Day per cui stiamo progettando alcune specifiche attività non soltanto su dati del PNRR ma anche su dati da elevato valore e stamattina ne abbiamo parlato e le due cose si incrociano da diversi punti di vista io vi ringrazio vi lascio chiaramente i miei contatti se avete bisogno di qualche chiarimento domande in chat grazie grazie Morena e questo era l'intervento conclusivo volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato anche come come spettatori al webinar e come come avete visto è stato un un seminario abbastanza denso una riunione abbastanza densa e per quanto riguarda le risposte alle domande che avete posto ve le faremo avere tramite il il Formez e con questo concludiamo e avete avuto una panoramica di quello che è stato sia il il lavoro svolto all'interno del gruppo quello che che si è mosso di quello che si è mosso a livello nazionale e delle ricadute sui territori che sono la parte più importante anche per la società civile ringrazio tutti chi vuole partecipare chi vuole poi mettersi in contatto col Dipartimento Funzione Pubblica per partecipare o a questa azione o alla prossima azione al prossimo piano nazionale del governo aperto lo potrà fare le amministrazioni che vogliono farlo le organizzazioni della società civile che vogliono farlo sono benvenute ringrazio tutti noi abbiamo davanti altri tre mesi di lavoro e chiudiamo con questo grazie da parte di tutti quanti anche da parte grazie arrivederci ciao buona giornata grazie grazie